Ho letto la demo di Mass Effect 3 è disponibile, nuova partita, è un po' una pecca però io capisco che all'interno di Dragon Age 2 noi utilizziamo un personaggio quasi scritto rispetto al primo che si ce l'hai delle radici Da quel che ho capito all'interno di Dragon Age 2 tu c'hai molte più radici perché probabilmente volevano farti capire una storia del mondo senza troppi fromboli, senza troppi bivi che magari andavano a completare le cose, non ci avevano tempo, può essere pure, non ne ho idea Ma fatto sta che noi durante questa partita giocheremo nei panni di Ruka quindi credo che andremo di guerriera Ma è l'inquisizione C'è Cassandra fin da Dragon Age 2 Ah proprio così Sì comunque graficamente è migliorato veramente un botto, questi sono punti però all'oscura, molto più fighi, hanno preso una linea artistica molto differente rispetto a quella base Anche perché questo momento qui da quel che mi ricordo dovrebbe essere il momento in cui è proprio scoppiato il flagello Quindi siamo nel Ferelden, sta succedendo il puttanaio e andiamo È molto più rapido perché possiamo cambiare bersaglio molto più facilmente, è molto più fluido Ecco questo che stiamo giocando al momento, sempre per quelle poche cose che so, è Loke, il protagonista di Dragon Age 2 standard Il, chiamiamolo canonico, no? È quello del come doveva essere E questa qui è la sorella, che tra l'altro io ho fatto caso a una cosa ragazzi La sorella, non so perché in questo frangente qui, c'ha le tette più grosse E questa cosa aiuta e si collega anche a quello che ha appena scritto Adesso capirete perché sto dicendo che la sorella c'ha le tette più grosse in questo frangente Ma abbiamo il primo roleplay Che qui è stato un po' portato all'osso e abbiamo il mood Tipo le ali sono qui al tuo fianco Neanche loro che questo è più scherzoso In tal caso combatteremo che sia un po' più greve In tal caso combatteremo E il nostro protagonista è doppiato Ecco che arrivano, me ne occupo io Fai pure Minchia quanto cazzo piccoli quei sottotitoli Minchia quanti nemici Ecco questa è una cosa che mi fece incazzare Me lo ricordo all'epoca Oh madonna Ma è un toro Ma che cazzo ha fatto Perché credo sia un attacco a 360 Attorno Per odio cristo Ok l'hanno reso molto più sang Quindi io se faccio questo e faccio due Brutò Frattaglio V Ecco questa era una cosa che un po' mi dava Ricordiamolo Per dare un po' di contesto Rispetto a Dragoneggi 1 Oak non è custode grigio Per chi non sapessi Custode grigio Sono gente che fa un rituale col sangue di queste creature E diventano tipo dei super soldati Oak è basic Quindi nel senso E soprattutto non sono immuni ai pro all'oscura Perché il sangue dei pro all'oscura È veleno se lo ingerisci Quindi questi sono ricoperti di merda Ma va bene Saltare Vedete tutti questi cosi che abbiamo attorno No non siamo a livello 1 qua Aiute Però appunto Piano piano ci arriveremo Noi come abbiamo iniziato Con il nano che sta raccontando una storia Madonna che bello Logre Madonna quanto è più fluido rispetto al primo Questa pure l'ho saltata Cioè vedete quanto sangue dei pro all'oscura in faccia Random Ma scusa Oak ha incontrato l'arci demone Così A random Sì comunque Già qua l'inquisizione Non è l'inquisizione ancora Perché la prima che ci ha raccontato Era quella che lui narra Quella un po' più infiocchettata Più sopra le righe Era la storia di Varric Il nano Quell'unico che conosco Adesso Entriamo in gioco noi Io come vi ho detto Non voglio andare troppo lontano Dall'originale Quindi gli stessi capelli Voglio che ce li abbia Comunque graficamente Ha fatto un sacco di passi avanti Cioè non gli si può di veramente niente Vorrei fargli Li nucleari i capelli Ma ho paura che poi In game Divenda tipo la mia maglietta Ragazzi E Ruka ce l'ha molto i capelli Color rosso scarlatto Innaturale Però secondo me Stonerebbe Tipo tantissimo Con tutto La nostra Ruka Oh è vero Aspettate Mi son commasso Porca puttana Me l'ero dimenticato È vero Perché la bellezza dei Dragon Age È che voi Sempre per chi È nuovo Vi create il vostro mondo Tutte le cose che noi abbiamo fatto All'interno di Dragon Age 1 Le scelte Le non scelte I roleplay Tutte quelle cose Spero in grande Non lo so Verranno piano piano Implementate nei vari giochi Vi formeranno il mondo Quindi noi adesso Non giocheremo in un mondo a cazzo No Noi giocheremo in un mondo In cui Malbeth Il nostro Malbeth Ha fatto quel che ha fatto Nel suo mondo Questo è un save Di circa 90 barra 100 ore Però prendiamo L'ultimo save Della fine Ma c'è anche Il riassunto della trama Ti fanno proprio un Questo Linea di massima È quello che hai fatto Bastardo Conferma Let's go Facciamo parte Della gente Della gente Che nell'originale Era fuggita Da Lothering Avete fatto caso A una cosa La nostra Gra sorella Ha le tette Più piccole Che cosa stai dicendo Lì ce lo sapete Perché Perché Varric Aveva esagerato Anche le Della sorella Esatto star Varric ha Volontariamente Esagerato Qualsiasi cosa Tipo È il campione Che da solo Sventra 35.000 Pro all'oscura Perché questa Tecnicamente La storia del campione È una cosa Che è già successa Perché il flaggello Tecnicamente Nel mondo di Dragon Age Da mo' che è passato Quindi è un po' Ok È successo qualcosa La campionessa La nostra cara Cassandra Sta cercando la campionessa Per fare qualcosa E a sto punto Mi viene da pensare Che volevano prendere La campionessa Come inquisitore Effettivamente E molto probabilmente Anzi Quasi comincia subito Con la speculazione Vai Molto probabilmente Sono andati a cercare La campionessa Perché non trovavano Il custode grigio Perché il custode grigio Alla fine del primo È sparito È andato a fare i cazzi Sua dopo che ha letto Quel calletto In quel libro E quindi Secondo me La nostra cara Cassandra Ha detto E io che cazzo Vado a pigliare Secondo personaggio Più importante del Tedas La campionessa Che il creatore ci salvi Abbiamo perso tutto Tutto ciò che Vostro padre Abbiamo costruito All'Odering C'è stava un cazzo Però Vabbè Lasciamo perdere Che tal l'altro Piccola chicca Noi perché adesso Abbiamo le mod grafiche Tutto La madre Il fratello La sorella Cambiano estetica In base ai colori Che voi scegliete Con un hoc Diciamo Customizzato Cioè se voi avete I capelli biondi La pelle scura C'hanno tipo le combo Che loro pure Sono mezzi biondi Che c'hanno la pelle scura E compagni È molto figo Ma noi perché Abbiamo i capelli rossi Che non sono in game Che belli però L'oscura qua cazzo Nel primo erano aborti Madonna Che bella cazzo Che è venuta Forza Livello 1 Guerriera Guarda Statistiche Sì Io dico Ma madonna Da dai lama Ho uno schermo in full hd Ma io mi immagino comunque Che uno sviluppatore Non è nato ieri No Nel tuo cervello Lo sai che ci saranno Degli avanzamenti tecnologici Come quando è uscito Dragon Age 2 Eravate andati avanti Rispetto al primo Ma volete mettere Che la roba scala Con la risoluzione Dio cristo Raga Non leggo Nemmeno io Cercherò in tutti i modi Sistemarla Ragazzi Costi che mi metto A creare una mod Ve lo amplio È l'eredità Purtroppo ragazzi Questa dei giochi vecchi Che prima andavano a 720p Che era molto più grande Guerra fondaglio Perché ovviamente il roleplay Sarà anche in queste cose Preparatevi Perché molte volte farò scelte Che magari me lo buttano in culo Per il roleplay Ficca un salto E si abbatte sui nemici Con incontenibili Ve le violenze Danni fisici Forza fisica per due Cosa hanno fatto? Hanno ampliato Un casino sta roba Cioè il primo era Fai danni Se devono superare Qualche prova difensiva Ma per il resto È fai danni Posso dire che Rook è veramente figa Si bonca forte Come Hulk Minchia ha funzionato Fortissimo C'è una strong wife Fuggiata all'inizio Ecco morto Questo d'altro è un templare Che cazzo ci fa Un templare qua? È una madonna Ma io la adoro Ragazzi ho trovato Il mio personaggio preferito Mi conoscete Sapete che a me Strong wife Piacciano O è morta No non ci stanno I custodi grigi qua Non ci hanno i cosi Forse è una strong wife Che sopravvive Miracolo Che ma è un toro Quella donna Un cazzo di toro Continuo a dire che Questa è una cosa Che mi dà tremendamente Al cazzo Poi non avete idea Nel primo ti dicono Attenti al sangue Tutti questi sono ricoperti Dalla testa E i piedi da sangue Di pro l'oscura È una cosa Una safonetta Tutto quello che vuoi Signorina Però in grazia Del padre eterno Per il creatore Pulisciti C'hai merda Di pro l'oscura In faccia Pulisciti Cazzarola A me mi farete ragazzi Perché ci stanno Tutti i milì Che sono ricoperti Totalmente Poi ci stanno La mamma e Betani Una crema Allora Io sto a distanza E cazzo me ne frega Ce la farete A tenere il passo Dobbiamo andare Lei mi sa Che è proprio Legale e buono Mi chiama Son duri Per stare all'inizio Prezzo Perché vuol dire Che effettivamente Ci hanno ribilanciato La forza Tanto lo sto giocando A 120 frame Ragazzi E come posso dirlo Senza essere volgare Da orgasmo Va bene Betani Ok Anche qui la magia è OP L'ho capito L'ho capito Madonna mia Ha tirato una palla di foca Ha devastato nel culo Anche se Però adesso Ti stanno proprio Buttando nemici in bocca Secondo me Volevano palesemente Flexare Il nuovo sistema De combattimento Qua Ma tipo Sicuro Te stanno a di guarda Avete quanto Poi fa più veloce A destra e sinistra Anche perché Letteralmente Con l'attacco base Si teletrasporta Cioè se io sto qua E lo stronzo Sta qua davanti Lei fa un passo E lo devasta Minchia Si la magia è rimasta Un sacco P Giustamente Sono contento Se l'hanno mantenuta Così forte Bravi Perché se di lore Deve essere così Deve essere così Basta che poi Non mi fai come nel DLC Di Liliana Che favano di tutti gli angoli Uh Cos'è Guardi attenta Aveline ha visto morire Molte persone care Gli anni di duro addestramento E le perdite Che ha dovuto subire La rendono un'alleata Capace Ah Ci hanno il loro ramo Ma che bello Servire e proteggere Ah l'amicizia O addirittura All'inverso Cioè se tu ci diventi Nemico Ci scapocci tanto C'ha un altro bonus La fedeltà di Aveline Con frutti di Oak È pressoché assoluta Trasferimento danni 10% Da Oak ad Aveline Si assorbe i tuoi danni Questa come fa a morire Se c'ha un albero dell'abilità Non può morire Uh così Tra due secondi Crac Va bene Quindi qua c'è la fight con l'ogre Ah ok Appare direttamente qua Madonna qui ha sconfitto un ogre Da sola Inversione depotenziata Abbiamo i nomini Spatris Immaginavo È comunque morto Meno male del re Io ve lo ricordo Il re come è morto Letteralmente l'ha preso Crac Ok Muore il fratello Ti stanno per dio Non ha funzionato Potrebbe essere dura No Perché la magia è devastante Dite che è vivo Potrebbe eh Perché magari essendo il fratello Però Dragon Age potrebbe essere così stronzo L'ha fatto più e più volte Troppe Logre se vuoi attaccare Magari Porca Ha attaccato Che fool Belle però Ste animazioni eh È colpa mia Ma che cazzo vuoi Ma è colpa mia Se tu figli Eri il cojoni Mi fratello Vabbè Vedete che bello Questo lo sappiamo Per il codex Che se l'era inventato Varric Il drago Bravo Varric Così Drago a livello 1 Ah infatti era fatto apposta E quindi No non se l'era inventato Ma scusa Ma quindi Ok ha incontrato L'arcidemone Che cazzo Ce fa qua L'arcidemone A meno che tu Non sei A meno che tu Non sei Flemeth O siamo per mori O è Flemeth Perché l'arcidemone Attacca i proloscura Vecchia di merda Vieni qua Quasco Ah Sì mi si sono attivati I neuroni Se ve lo state chiedendo Scusa Parte smash Va bene Domanda Cosa cazzo è successo In due settimane Ti ho incontrato Con Malbeth In Dragon Age Origins Eri una vecchia di merda Con le occhiaie grosse così Bruttissima Mi spiace Eri vestita di merda Sei andata dall'estetista Che cazzo è successo Dove Dove Che Come Per tutti quelli Che sono nuovi Voi non lo sapete Ma era veramente Un'altra persona Nuova Granny Party No Però perché ci ha salvato Flemeth L'abbiamo imparato Dal primo gioco Non salva gente A cazzo Ha salvato Malbeth Perché ha visto E sapeva Quello che avrebbe fatto Malbeth Quindi lei Ha salvato il campione Perché sapeva Che sarebbe diventato Il campione E dopo la fine Del primo gioco Tu mi puzzi Di Dio Dio Rincarnato Dio Antico E compagnia Che tu non hai idea Bel trucco Ma donna che cazzo Sei Bella Vero Però è vera questa cosa Perché uno Bisogna un attimo Pure che mette in chiaro I livelli di potenza In Dragon Age 1 Noi eravamo Un custode grigio Super soldato Mago Tra l'altro E compagnia La nostra Ruka È un'umana Poi non so Se pure qua Ci saranno dei risvolti Perché una cosa Che mi dà fastidio È che la frase Che c'è scritta là Ragazzi Non è quello Che dice Perché in Dragon Age 1 C'era scritta una frase Non era doppiato Tu dicevi quella Punto Sei proprio stronza Questa frase L'ha messa proprio Per wink wink Al primo gioco Non mancherai Alture È morto Nel primo gioco Poi hanno fatto Truc Secco In prima linea È morto King Kalen Was betrayed There's nothing for me here I see Hurtled into the chaos You fight And the world Will shake before you Comunque Flemme teme Dai il tempo Sta in botta È fate Or chance I can never decide It appears Fortune smiles on us Both today I may be able To help you yet Riesce a vedere Forse il futuro Che modo di merda È Di mettere I sottotitoli C'è uno schermo Grosso Così Mi fa così Tra l'altro Comunque Il marito di Aveline Si è stato trasformato In un ghoul Nel mentre Perché è stato Corrotto Dai pro lo scuro Ci avevo preso No Indaghiamo Strega delle selve Ecco Questo è molto Di role play Io sinceramente Ruga la ruolerò A differenza di Malbet Non come una studiosa Cioè Malbet Col fatto che stava Nella torre Del circolo dei maghi Studioso Iare Iare da sé Ok Lei che è comunque Soldata Una roba per carità Ne ha rincoglionita De turno La conoscenza Che apprenderà Tramite i codex L'assimilerà Però non è Quindi Strega delle selve Ma guarda Se te presenti a me così Mi faccio rapi subito Ma cosa ci attende? Lo stavo per dire io Tipo Chapeau Quindi un punto A tuo favore La conosciamo bene Morrigan Eh no Si mette male Ok Ci ha citato Liberatelo dalla sofferenza Cioè Povero Cristo Cioè Non fatelo morire così No Io non volevo Porla così Ecco Ci sarà molte volte Sta cosa Belli gli occhi Oh Bella Sta transitione Continua Ma se ti dici Mi sono venuti A Kirkwall Tanto se sente Che De Orle C'ha sto accento Francese Io sta cosa Degli accenti In Dragon Age L'ho adorata La città Delle catene Era una città Del Tevinter Bene Per dare un po' Di contesto Il Tevinter Era un antico Impero Di maghi Che erano Dei grandissimi Figli di puttana Gli cazzi Sono veramente belli Ma sotto il punto Di vista del design Stanno aumentando Un sacco Le scene La regia Anche l'estetica Madonna mia Madonna mia La città Delle catene Probabilmente Era tipo Un gigantesco Campo di concentramento O campo Di schiavitù Chissà quanta gente Dal Ferelden Esatto È arrivata Una cosa Che sto adorando Per adesso È la quantità Di armature Armi Estetiche Anche uniche Perché Nel primo Si andava un po' A perdere Perché c'erano Letteralmente Quattro armature Più o meno Cinque Mentre qua Veramente tante Hanno preso Molto più Carattere Sul design Bravi Un tempo Kirkwall Sorgeva al confine Dell'impero Tevinter E contava Quasi un milione Di schiavi Nella scogliera Sono scolpiti Numerosi guardiani Che rappresentavano Gli antichi dei La chiesa Ha rimosso Molte di queste Sentinelle profane Ma serviranno Molti altri anni Per eliminarle tutte Anche perché Se c'è fatta Tutta la scogliera Avedo lunga Ah insomma Una città Che non è per niente In dito in culo Cioè diciamo Che è libera E potete fare Quei cazzo Che vi parli Ma non troppo Perché sia mai Tra l'altro Di fratelli genitivi Che bello cazzo In chi si vede Che però È architettura De vinter Sta cosa L'ho adorata Mamma mia In giro per la città Ci stanno appesi Ai muri Le statue Degli schiavi Madonna Che bello cazzo Mamma mia Ho capito Cioè Ma ristrutturatela Sta cazzo Di città È come se voi Entraste a Berlino Ovunque Svastiche Aquile Statue Con non posso fare gesti Perché se no Mi bannano Che cazzarola Ma toglietela Sta roba Ripitturatela Fateci sopra Una botta di stucco E poi Uno non ci pensa Ma questi c'hanno Come zona d'arrivo La forca Il porto La zona dove tu sbarchi È la forca Perché probabilmente Magari un tempo Ci mettevano gli schiavi Appiccati Dicevano Vedete che ve facciamo Ecco qua c'è un po' di C'è un po' di nazismo Ragazzi Leggero Leggero Talvez Ma to Che belle l'armatura È una grossa città Dai Ci entreremo tutti C'è stavano un milione De schiavi Mic Drop Siate ragionibili Ammazzecca Non è mai più nella vita Un nobile Io c'ho la casa qua Pago le tasse Eh l'ho capito È la madonna Eh sì Eh che 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 te si porre Poi dici dove fanno entrare Siete in 35 Ti sei portato Tutta la guarnigione Ma che cazzo vuoi pure tu Come da buon D&D Palate fuoco Ha funzionato Ah il capitano Sta combattendo con noi È spawnata un'altra gente Porca puttana Pure dietro Vai a dare una mano A tua sorella Tu va Non c'era Non c'era bisogno Va bene Una salvietta Ce l'ho eh Ok Ah vabbè Figaccia Ho detto Guarda Ma avete parato il culo Vado a farlo io Micchia Veramente ricorda molto Ma secondo me Si sono ispirati Veramente Quasi al terzo Reich Per quella roba Ho capito Tu è andato a cercarlo Ma palesemente È andato a rifarlo Con una donna Vostro zio È tipo quando vi fanno il caffè Che vanno a cogliere i chicchi Ah no eccolo Acci due Tre giorni Per venire qua I nostri protagonisti Con la spada La quote Mentre la filano Che stai a di C'è questo muro Di waifu Perché sono tutte Tre bellissime Che lo guardano A far serio In tal caso Ci pensero io La comandante Ok Già Già C'ha rinunciata La madre Mi stai a dire Che devo diventare Un mercenario Un tagliaborze Specifichiamo Questa cosa Cacciamola fuori Quindi ti sei fottuto Parafraso La cosa Ti sei fottuto I soldi di famiglia Sembra divertente Sì ma io Comunque In questo dragon Stanno lanciando Date a random Sono passate Tre settimane Poi due Poi quattro giorni Poi un anno E la madonna Damose una carmata Con tutte ste date Porca troia Probabilmente Anzi lo stanno facendo Per far passare Il flagello Perché il focus Del primo Era il flagello E tutto quanto Che non so Quanto sia durato Forse veramente Un anno E quindi magari Dicono Ok Ci togliamo Dai coglioni Tutta la questione Del flagello Vaffanculo Così magari Rintroducono Anche i personaggi Del primo Le faccende Del primo Che effettivamente Ha fatto Malbert E gli arei Da sé Anche se perruca Mercenario C'è sta Ti stavo chiedendo Se faceva contratti Per ammazzare Bambini Parlami del tizio Inteso Più o meno Che cosa fa È Griffith O è La banda Dei stupratori Perché se no Ma stai zitto E vieni con noi Cucciolona Che tanto lei combatte Con spada e scudo Del marito Oh no Già così Oh Belli Lunghi I codex Ah perché Questi cosi È una fila Di schiavi Davanti a un Lord Magister Ma che sti cazzi Che mi ha conosciuto Tu zio Ma se si è capito Che tuo zio Ha sperperato tutto Come un rincoglionino Poi si è trovato Che pezza al culo Ha fatto i debiti Sei mischiato In cose che si doveva Mischiare E così sei un Mercenario Più che altro Io continuo a dire Gli chiedo le informazioni Non mi dicono un cazzo Siamo mercenari Se ci tradiscono Gliela buttiamo In culo Basta Non voglio diventare Contrabbandiere Se devo dare Un background Nella città Luca la vedo Come mercenaria Che diventa Anche bella cazzura Ah era quello qua Dietro con cui Ho parlato prima Tra l'altro Fammi andarmene A vedere quell'altra Oh Sono elfi Che belli Tu Fammi vedere La signorina Oh Bravi Molto più Caratterizzati Scalzi Perché sia mai I piedini Sono sempre belli Sono molto più Magrolini Slanciati Belli Che nel primo Erano semplicemente Degli umani tappi Con le orecchie a punta Sono qui per parlare Cos'hai combinato Esattamente Beh zio Io ti direi Hai fatto lo stronzo Te lo riprendi in culo Non se ne parla neanche Secondo me Non farà piacere Dai Oh minchia Con Aveline Scorneremo Aveline Propriamente Voleva più risparmiarli E' veramente Legale e buona Brutalmente Lei Madonna Che belle Le luci Raga Ma ci sono Le luci dinamiche Ma che Bello Il sistema di combattimento È diventato un sacco Un sacco più fluido Scusate se magari Nella prima live Ve le dico molte volte Ma è veramente bello C'è una persona Che si è fatta cent'ore Su Dragon Age Origins Questa è veramente Una figata Altri due anni dopo L'importante E' essere al sicuro Poverina Che belle però Le espressioni facciali Per essere Un PG creato Dico eh Perché non so Eccelse Ok Ok Bella sta roba I Kunari Oh 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 Ah ok L'hai incontrata qua In questo gioco Ci saranno un po' Dei disguidi Descornate Tra templari E maghi Però ci hanno dato La base no Il flagello è finito L'eroe del Ferelden Ha fatto quel che ha fatto Ce l'avevo preso Noi abbiamo fatto Il nostro anno E adesso Per i titti di Adraste Perché se vanno Le vie profonde Di tanti Pro l'oscura Abbiamo esperienza Bella armatura Che abbiamo È nuova Dai stai in panico Perché se stanno Un sacco I rapporti Con i templari Io non so Se è anche Qua Kirkwall Per adesso C'è un circolo Quindi Perché se C'è il circolo Vuol dire che Lei Sta fuori Se la cioccano Se la Mazzuolano male Ce la caveremo Madonna Ma Ho visto Un anno Bastardo L'adietro C'era pure Quel pezzo Di merda Del figlio L'ho visto Che c'hai detto Forse Conosce qualcuno Che può Parlare Ma lo so Vedete il problema Di sti cazzo Di sottotitoli Qual è ragazzi È che hanno fatto La cazzata Perché nel primo Era perfetto C'era la barretta Nera E sopra I sottotitoli Qua hanno messo Sto filtro Di photoshop Non so per chi Lavora Che tu fai Letteralmente Il filtro Ombra E l'hanno messo Proprio A cazzo Totalmente E che mi dici Di bethany No Se ci sarà Una scelta Per portarsi Bethany Nelle vie profonde Diro de no Perché Sto vedendo Che cazzo Vuole fare il gioco E se carver È morto Come uno stronzo Pure lei Ha una bella 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 Red flag In testa Perché portarsi Nelle vie profonde Vuol dire Che lei Sicuro Muore Contro i Proloscura O mangiucchiata O corrotta Peggio Sei un po' Troppo gentile Oh A 50 sovrane Tua madre Nel primo gioco Per trovarle Ci ho messo 18 live Ah quindi La spedizione Per andare In un taig Nanigo Va bene Sempre per contesto Storizzazione Il taig Sono letteralmente Chiamiamole Le città naniche Sottoterra Perché purtroppo L'impero nanico È stato completamente Devastato dai Proloscura Perché i proloscura Vivono e proliferano Nel sottosuolo Loro stanno tutti Nel sottosuolo Sono rimaste In realtà ne abbiamo Riconquistate un paio Quindi dovrebbe essere Tre città naniche Al momento E i taig Sono È come dire No Roma Milano E poi prendi Il paesino Del cavolo Non ho molti soldi Sarò onesto Non ho molti soldi I wouldn't need This job Perché no Stiamo con l'acqua La gola Questo è il momento Kingdomers 2 Quando fai i lavori Bodan Pezzo di merda E quella bestia Di satana lì Le lo dico Più in modo affettuoso Perché voi dovete sapere Che nel primo gioco Non tanto Bodan Il padre Ma il figlio A un certo punto Noi nella battaglia finale Quando stavamo per andare Contro il cazzo di drago Finale L'abbiamo trovato Da solo Circondato tipo Da una cosa come Sessanta per l'oscura E due ogre Che l'aveva sciottati tutti E urlava E diceva Enchantment Quindi da allora Io nella mia testa Dico Vabbè questo per forza È un altro dio caduto È qualche bestia Di satana definitiva Per forza Perché se no Non si spiega E quindi c'ho il terrore Perché che cazzo ci fai qui Esatto Come siete finiti qui Ok parla del nostro protagonista Conoscevi l'eroe del No se mi parla di Malbeth Dai Quindi madonna Noi Cioè Malbeth ha finito il flaggello In un anno Credibile Ah ok finalmente Non devi più parlargli Ma vai Interagisci con le loro attrezzature E ti butta dentro Vai a vedere Ma infatti una cosa Che io mi stavo chiedendo Io c'ho l'equivaggiamento Ma Ah Bravi Perché nel primo Era figa la cosa Per carità del cielo Era molto figa Però era un po' Una rottura Tra virgolettoni Perché comunque Un GDR Il doversi stare a gestire Dieci personaggi Qua che cazzo hanno fatto Hanno fatto che loro C'hanno la loro Armatura Che tra l'altro Le ali di Oak Hanno la loro armatura E penso che questi qua Sotto sono i vari potenziamenti Quindi voi potete potenziare Così c'hanno la loro estetica Che è bella Perché è bella C'hanno soltanto gli accessori E le armi Ah 11 danni da fuoco 11 danni da fretta Migliora con l'aumento di Ah Con i DLC Hanno anche aggiunto Le armi Che scalano Con il personaggio Cioè questo è Quarry di Betulla È l'arma di Bethany Hanno poi aggiunto Anche il Ok Non ti devi preoccupare Di dovergli stare Che è un po' un peccato Però non ti devi preoccupare Di dovergli stare A mettere Le armi nuove Gli scudi nuovi Quindi giustamente È anche bello pure Lorewise No È tipo Aveline Cioè Aveline sicuramente Combatterà ancora Con la spada del marito E lo scudo del marito Quindi perché dovrei Troierglieli Si potenziano Bellissima come cosa Varric Ma guarda che balestra Esatto Non devi gestire L'invento Oppure magari Trovi un'armatura Bellissima La metto io La mette Il tank del gruppo Però perché ci sono Le statue dei campioni Sono cose che hanno fatto Più avanti È avvenuta La ristrutturazione Che dicevano Fortezza Il visconte Un'amica nella Oh andiamo da Aveline Subito Infatti mi stava chiedendo Dove è andata Aveline Entrata nella guardia cittadina Figata Madò Che bello Voglio vedere Evelyn Com'è diventata La nostra guascona Che mi odia Per adesso Forma il tuo gruppo Ah ok Oh Ma me la spoileri così Ma bastardi Maledetti Evelyn Come stai Bella Usa vedete Lo scudo da templare Del marito Ah c'è proprio Wee guascona Ho righiato Qualcosa di utile Vuole spaccare Più ossa Tu diventerai Il capo delle guardie Vero Sono abbastanza sicuro Di questa cosa Vuol dire che Hawk Ci avrà Dei contatti In mezzo Alla città Non poco Importanti Che belli però L'hanno molto ampliati Gli interni Sono diventati Molto più variegati Oh Giorno Notte Questo Ah fuori città Madò Ok quindi Si strutturerà Tutto qua Proprio nella città Figata Andiamo un attimo A casa Prima di andare a fare La missione Della nostra Cara Evelyn Visitiamo Il nostro buco Perché Voglio capire Un attimo Dove si è fatto Andare a finire Quello stronzo Di nostro zio Ok se nel primo Noi avevamo Tra virgolettoni Tutti i vari crafter Qua ce l'abbiamo In città Noi troviamo I materiali Le ricette Possiamo ordinargli Le pozioni Radice elfica Ah no È la varietà Di risorse scoperte Quindi le varietà Di radice elfica Di erba esile Hanno semplificato Questo lato Probabilmente Quindi ti dice Esplora tanto Quanto in giro Perché ti serve Una guardia Vediamo se Sovere Però potrebbe essere Una complice Questa cosa è successa Perché noi nel primo Abbiamo trovato Le ceneri di Andraste Che per dare del contesto È come trovare Le ceneri di Gesù Cristo Vere Queste ceneri Permettevano di curare Ogni malattia Davvero Però Vedete che cazzo Di cosa che ho ripreso 27.000 Veramente anni fa La gente poi la sfrutterà Perché questi fanno Eeeh C'è un pizzico di polvere Delle ceneri di Andraste Quella era una complice Ha fatto è sparito Tutto perfetto Lui la vende Ok Cure miracolose Elimina i truffatori Del carta Quindi ok Che agiscono Nella città Madonna E raga Io sta cosa Ok Magari non c'ha Il roleplay Del primo per adesso Però mi scalda il cuore Sta cosa C'è il capire Le cose prima Il dire ok E quella roba Il capire una fregatura Il avere anche il contesto Quindi capire Che cosa è il carta Che cosa sui ceneri di Andraste È una cosa che veramente Mi ripaga Tutta la voce Che mi è partita Veramente Leggendo tutti i codex Me la ripaga tutta Niente rimborsi Per le ceneri Evelyn Stai calma Evelyn è partita subito La gamba tesa Tornata Vanna Marchi Che bello Cono di ghiaccio Varric Mettiti a distanza Betani pure Ah no Congela pure questo Cosa frammentazione Ma se lo sparo sui cosi Faccio la combo Come nel primo Li frantumo Vedo un interrotto Uno stordito No Però potrebbe Secondo Magari col critico Come nel primo Mi dispiace Signore Evelyn sta in quella posa Io ho fatto il potenziamento Non gli puoi fare Gli attacchi furtivi O almeno Non prendi Bonus Signorina Ho sgozzato Tutte Ok Perché giustamente Loro comunque Se guardi i cittadini Non dovrebbero Sgozzarli I criminali Dovrebbero portarli In carcere Poi ha fatto Eh che è successo Due monete Due monetine Mi sono cascate Quindi ho fatto Madonna Veramente Bioware Che scelta di merda Per il fond Mi dispiace Ma è una scelta Di merda Per il fond Veramente Incredibile Oh il mappare Guardalo che bello In che posto di merda Che stiamo Ma te non ti posso dare Un nome Ti chiamerai cane a vita Quindi adesso Mi fa scegliere il nome Ok È una voce Nell'orecchio Della nostra cara Ruka In elfico Gli disse Chiamalo Kiri E cosa diceva Esattamente Il testamento Gli darò un'occhiata Ci entri a modo di forza Effettivamente Essenzialmente Nostra madre È un po' Titubbante Perché dice Scusa I nostri genitori C'è un testamento Sono morti i genitori Questi due Perché sono morti Certo C'è un testamento I miei genitori Non mi hanno lasciato Assolutamente un cazzo Mi sembra strano Lui dice Sì perché sei scappata Con un mago Nel Ferelden Giustamente Noi gli abbiamo detto Che cosa diceva Il testamento Lui fa Boh Non mi ricordo E adesso Probabilmente Andremo a riprendere Sto testamento Per aprire il culo Al nostro caro zio È un bogiardo Patologico Potremmo Ma come te fai A giocare A casa A dati Ma porca Quindi casa nostra È diventata Una base Dei schiavisti Ma sistemiamoli Subito Porca soccola Ah vabbè Ok Ma questi Sono tutti I mercanti Quindi da lui Possiamo ordinare Oh Però bella Sta cosa Che hanno fatto Del tu devi trovare Le varietà Cioè non devi Stare in giro Per le mappe A prendere Le singole Erbette Che sono anche Limitate Se tu c'hai I soldi E le varietà Puoi ordinargli La roba Questa è una cosa Figa Che semplifica Da una parte Perché non devi Avere i punti Da buttare Sui vari skill Trick Tanto ho scoperto C'ha no Il sangue di drago È uno Ok vabbè Ma quindi queste Sono tutte Sì Merci pregiate Armeria di ola Facile Proprio qua Chi ne è sbattuto Ciollo Qua c'è stanni I mercanti Ma minchia Noi ci abbiamo messo Un anno A consegnare L'amuleto Andiamo da fare La roba di Evelyn Minchia Bella l'ambientazione C'è il primo Se aree così aperte Erano veramente Tre texture Qua hanno Spiccato eh Evochiamo anche Il doghino Madonna Che sei bella Mamma Si menano le mani Siete soltanto voi Bonjour Questi tamburi Alla veramente Signore degli anelli Anche meno Nel buco del culo Cioè io Belli Sono belli Ma è fortissimo Radice elfica Eccolo qua Possiamo craftare Le pozze Ah ma c'è anche Il codex Dell'oggetto Dal compendio Botamico Di Oh E quella Stronza Nel dlc Wine ci ha detto Va andato a trovare Una botamica E quella Ha fatto il codex Poi Oh Se troviamo il codex Unico perché gli abbiamo Dato il seme Con malbet Io sborro Mi dispiace Sarò vulgare Madonna che belle Le animazioni C'è una fluidità Nel combattimento Che è qualcosa Di mostruoso Ragazzi Vedo dei barilotti Non sono molto Furtivi Dovebbero essere Le trappole Mi sa che l'hanno messa apposta Comunque che non possiamo Più zoomare così troppo Perché tu potevi fare Effettivamente Dei cazzo di long shot Nel primo Essenzialmente Allora scatta in avanti Così stanni tutti Blocchiamo lo stronzo Sul po No perché Ha fatto una bastardata Sbuca dietro a Non sei molto intelligente Cioè se io fossi stato Un assassino Che faceva quella roba Andavo dietro a Bethany Non dietro Al muro Mamma mia Capito sei coglione Che ti devo dire No aspetta un attimo Caro nano Fallo su quei due Stronzi laggiù Tretta di ghiaccio Sullo stronzo Arrivo Merda Quello lo finisce Bethany E questo lo facciamo noi Ah c'è proprio Abbiamo mazzolato Tutti di legnato E vaffanculo Va bene Fammi luttare Ma quindi queste Non erano trappole Sì Ma queste Sono tra due secondi Dopo un'esplosione Qua sotto Brillantite Ah è un oggetto Quando queste più luccicanti Vennero portate dagli esploratori Nei mercati Dei liberi confini Divennero immediatamente Popolare tra le donne Più facoltose E sia mai Iniziarono a frantumarle E applicare la polvere Sul proprio volto La pelle appariva Indubbiamente più lucida E levigata Ma l'applicazione che usava Anche forti di irrigazione Ah praticamente Era l'alfa dei trucchi Disturbi respiratori Ma che cazzo è Tipo Lamianto E praticamente si mettevano Il trucco a lamianto Oh I kunari Tanto questi sono talva shot Sono kunari Erano kunari Cacciato il gioco fortissimo Però questi sono talva shot Sono kunari Da quel che mi ricordo Disertori I kunari Sono Una Specifica razza Di colossi Dalla pelle bronzea Con le corna Enormi Fortissimi Che io effettivamente In questo gioco Appunto ci sono E io voglio che li approfondiscono Perché da quel che abbiamo scoperto Nel primo gioco I kunari I kunari Hanno addirittura I maghi Cioè che cosa sono Sono umani Sono una sorta Razza degli umani Visto che c'hanno le corna Che tra l'altro Ora che ci penso Molto simili a quelle di Flemeth Sono dei mezzi draghi Sono degli esperimenti Sono a razza Perché sono a razza Però Noi ce l'abbiamo Un po' di cosmologia Del Tethas Cioè gli elfi Da dove sono venuti Tra virgolettoni Gli umani Da dove sono venuti I nani Da dove sono venuti Ma i kunari Quindi Sono curioso Quello è un mago No è una distanza Ma che belli Che siete Tutti nudi Perché tra l'altro Combattono nudi Però perché ci attaccano Perché la maggior parte Dei kunari Che sono sbarcati Qua a Kirkwall Hanno disettato Essenzialmente E tanto toccherebbe Capire anche Io spero L'approfondiscano La religione Del Qun Perché loro Sono veramente Dritti Come abbiamo detto Nel primo Loro sono i veri Neutrali Sono proprio Zen I talbaciolto Non credo Sempre per dare Un po' di contesto Per chi non sa Ogni nome dei kunari Significa la loro mansione Se un kunari Vi dice Mi chiamo Questo Non vi sta dicendo Il loro verunore Ma lui Gli sta direttamente Dicendo Io sono Guerriero Io sono Comandante Io sono Mago Curatore Infatti nel primo Zen È il nome Per il comandante O il Insomma Non mi ricordo Chi me l'aveva detto Il tizio di guarnigione Ma voi siete tutti Elfi Le armature del primo Queste sono Assassino Delish I was a beast Then A werewolf I did Many terrible things I I'm sorry Sorry does not bring my mother back I was a victim to elf Of Zafrian's vengeance Stranger please calm her down Oh ma toh Questo fa parte del gruppo di lupi mannari Che abbiamo salvato con Malbeth Però perché non c'ha gli occhi gialli Perché c'avevano lo sbatti Va bene Però giustamente Lei non è Malbeth Un lupo mannaro Did I hear you right You're a werewolf I was one but no longer Her Dalish keeper Cursed some humans With lycanthropy long ago The disease spread over the years But the hero of Ferelden Freed us Se volete sapere Come è andata a finire La questione con i lupi mannari Episodio non me lo ricordo Perché non sono Zabaku Ma nella prima Nella prima serie Ci sono proprio due tre Thumbnail Che ve lo fanno vedere Il fatto ragazzi Che adesso che non abbiamo L'indicatore no Che ci dice bene o male Se è violento Io non so che cosa scegliere Qui se uno dovesse ruolarla Noi sappiamo Le gesta Dell'eroe del Ferelden E compagnia Quindi Effettivamente lui Sta dicendo il vero Poi non so se Sei specificata sta cosa Però Uno può anche crederci Se è buono Lascialo andare Va bene ragazzi Questa l'hanno fatta proprio Elfa standard 101 Cioè questa è la Reincarnazione di Zadrian Del primo Perché è incazzata Come una bici E ha letteralmente inseguito Lui Fino a qua Per ammazzarlo Va bene Ma voi siete Dei Stronzissimi Elfi Con tutto Sono volati tutti via Con tutto l'amore Del creato Che posso avere Voi siete Degli stramaledettissimi Eeeh Vabbè Sì Ce n'avevi Eeeh La madonna La madonna Ce n'avevi altri 75 stronzi Dietro l'angolo Così Brutalmente Due Nya Non vedo l'ora di sbloccare Anche le altre abilità Bello come il guerriero Comunque Stan Fa volare Oeeh Meglio del mago Che tra l'altro Per fare i test Con le mod Ho giocato un pelino Il mago Raga E' bellissimo Su sto gioco Giocare un mago E' veramente figo Ne ho capito Ma davvero Scusami Già gli elfi In bocca Ho seminato 10 elfi Top Iasi 50 monetine Vatta una fangola Questa ok No raga Mi sa proprio di cosa Che te la mettono Ti ricordi Luvi Mannari Ecco C'hai ripensato Volevi ammazzarli In realtà Ti diamo la chance Essenzialmente E comunque Armi incantate Fanno veramente male Cioè se tu Riesci a entrare Nell'ottica Hai capito Nel primo E te lo sei mangiato Veramente il secondo Fai faville Cominci fin da subito A capire dove devi andare Cosa devi upare Cosa No E' fico 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 Sì perché i numeri grossi Sono crit Un 90 E un 128 E la nostra cara Sorellina ha fatto Un 172 di crit Questo è morto Ciottato giustamente Che cazzo vuole fare Pure se fosse Si si mette lì Star Prendimi Ora Come sta il comandante C'era Aveline che lo pigliava Scudate nei denti Che lo stannava Barrick dietro al culo E Betany che gli sparava Le magie dietro Che cazzo era Oddio Putta Che schifo Ma perché Questi Mamma mia Bata In culo Sono riusciti a renderli Ancora più brutti E' incredibile Questi giustamente Non ci sono i pro L'oscura Quindi non sono corrotti Ragno velenoso Allora mi sa che questi Sapete che forse C'erano anche Nel magazzino del primo Sì perché sono ragni Uh Lo stavo per dire Cazzo Figata Infatti mi stavo chiedendo I ragni giganti Nel mondo di Dragon Age Sono contestualizzati con Li ritrovi nei posti Dove c'è la magia Perché essenzialmente Sono ragni Uppati Dal mana Semplice Ho detto Però perché qua Ci dovrebbe sta magia C'è sta cazzo Ci stanno Due maghi eretici Bravi Anche perché qua Ci dovrebbe stata Quel che abbiamo capito Palese ci sarà Sta faida Tra templari E maghi Però vedete Questa è una figata Perché appunto Non ci vuole niente A fare contestualizzazione Pozione sperimentale Oh Come pozione sperimentale Di Avernus Punti caratteristica Più due Però ragazzi Questa È perché Noi nella nostra run Abbiamo fatto fare ad Avernus Gli esperimenti Credo Ha finito gli esperimenti Perché nel primo Dovete sapere che noi Avevamo incontrato Sto mago Dei custodi grigi Che stava facendo esperimenti Per potenziare E ha detto Quando avremo notizie Vi manderò Una lettera L'ha finito dopo un anno Proteggi la lettera A ogni costo Comandante Dei Eh sì Questa è una lettera Di Malbet E scusate Il comandante Dei custodi grigi Siamo noi Tra le informazioni Riguardante l'artefice Si sono dimostrate Oltremodo Preziose Ultimamente abbiamo Compiuto molti progressi Come supposto Dall'artefice E il sangue Dei custodi grigi Cella Una considerevole Poteri I cui effetti Possono rivelarsi Formidabili Ma scusate Ma da uno stronzo A cazzo Mi mettete Sta lettera Cioè ragazzi So che per quelli Nuovi Questa è una lettera Del cazzo Ma in realtà Questa è una lettera Porca troia A parte che tu Potresti avere Più due Sui punti Caratteristica Ma non so Una persona normale Cosa fa questa cosa Perché i custodi grigi Faceva prendere Il cagotto a fischio E li potenziava Ok Ma una persona Che non è un gusto De grigio Morta E queste Ok Ci stanno anche I rami Delle sottoclassi E la madò A proprio accedere Alla classe Ti dà dei buff Subito Figata Lira è solo Una delle caratteristiche Che distinguono i berser Chiunque può abbandonarsi All'ira Ma soltanto un berser Che è in grado Di trasformare Questa energia Furibonda In colpi Brutali Che macerano Eh ma pure questa Dipende se voglio Dipende in realtà Molto da come andrà Il roleplay Punto più A quella del drago Ruga come La maggior parte Di personaggi che utilizzeremo Sarà sul buono Malbet Era un caotico buono Ruga Devo vederla Perché è bonacciona Però è anche molto stronza È buona Se Malbet era buono Era furbo Era molto light Yagami Era Fammi un attimo Abbassare la cresta Per essere furbo Per prendere le informazioni Che mi servono Ruga dall'altra parte È molto più schietta È molto più onesta È molto più anche babbaciona Per fare un termine Un po' particolare È molto più Sempliciotta Non è Ultra mega Ok faccio questa cosa Per girargli la contro È molto terra terra Però magari può risultare Brutale Perché se Malbet Ti intortava Lei ti dice No vaffanculo Quindi potrebbe portarci In delle situazioni Un po' brutte Effettivamente Average barbaro Sì Che te imbruttisce Però magari è anche Quella cosa che c'è Un po' il suo charm Oggi quest Però mi sa che È proprio un gioco Molto meno improntato Per adesso Sul roleplay Perché in Dragon Age 1 Ma sapete quanti dialoghi C'ha Veramente Lo stronzo che raccoglie Le erbette Ti devo raccontare La mia vita Mercenario di Flint Vai per morire Eh vabbè Madonna Mi piace come Evelyn Li defenestra proprio Li butta a fanculo E ho detto Ragazzi Buongiorno Salve Ah ma quindi Questo è un accampamento D'Alish C'hanno addirittura Gli standardi adesso Che bene Mi piace come L'abbiano molto più Caratterizzati Anche visivamente Sono molto più Peculiari Come mi avete chiamato Bello che te lo mettano Perché Shamlen È la parola elfica Per dire Umano Essenzialmente Che tra l'altro è fighissimo Perché ho fatto anche Leggermente un po' di studio Non mi ricordo adesso Com'era la formula È molto simile Anche per i nani Perché è tipo Una radice Più un altro pezzetto di parola Perché dovrebbe essere tipo Tizio degli umani Tizio dei nani Non voglio guai Madonna Madonna se sono sempre Più convinto Di fare un cazzo Di Hitler Nel 3 Oh che belli Hanno caratterizzati Molto di più I tatuaggi Qui ragazzi È ancora più greve Anderana Tishan Travellers Indie Chiazzo vuoi Che belli pure Che c'hanno gli occhi Molto più grandi Però Qua è ancora più palese E si avvalora La mia teoria Che sti tatuaggi Che loro si fanno In faccia Sono palesemente Eretità Dell'impero dei vinter Cioè Sono palesemente Tatuaggi Da schiavo Perché nel primo Erano Tatuaggi normali Invece no Sono proprio bianco Anche magari fatti Che cazzo ne so Con l'irium Cioè Sono tatuaggi Particolari Mi sanno veramente Di marchi Per segnare Chi era lo schiavo Ma finché non ci danno Ciccia Un cazzo Qua si parla A cosa serve L'amuleto Sono qui per questo Un dragone Un dragone Un dragone Un dragone Un dragone Un'altra dea elfica Un'altra dea elfica No vabbè Random Scusate Ok Ok Un'altra dea elfica Perchè quando ha nominato Non ci diranno Un cazzo di Flemeth Quindi ho buttato L'amo Fatto Fatto così Sono stato una Lo ridiro dietro Perché Non si sa Perché è Molto tirata A cazzo È molto tirata A lungo E distinto Valanslin La scrittura Con il sangue E così Lui si sedetta Cese un piccolo fuoco Iniziò a scogliare Il cervo Che aveva cacciato Sì Ma dimmi Dei sti tatuaggi Porco Disse che I talici si marchiavano A quel modo Per distinguersi Dagli umani E dagli elfi Che avevano Accettato di vivere Sotto il dominio Ma Minchia Minchia raga È proprio il contrario Allora Finché non me lo confermano No Però ci ho preso Oggigiorno Lo fanno Per distinguersi Dagli elfi Di città Ma sicuro Come loro All'epoca Dell'impero Tevinter In cui Gli li mettevano Apposta Per identificarli Era proprio il contrario Tu c'hai quel tatuaggio Ok sei uno schiavo Del cazzo Sicuro Come i nani Dici Eh sì Esatto Proprio stessa cosa Giora Perché Il fatto È che dipende Anche molto Di cultura Ma solitamente In queste robe Così Chiamarli Tatuaggi È un po' Un piacere Perché solitamente Questi sono più marchi Per dire Ok Tu sei Quello Che tra l'altro Si rifà anche moltissimo La cosa dell'impero Devinter Al nazismo Ci sta molto Il paragone Come il numeretto Che avevano gli ebrei Loro avevano i tatuaggi Però appunto Speculazione Non voglio tirarla lunga E compagnia Loro probabilmente Col fatto che poi Non sapevano un cazzo Della loro cultura Hanno detto Ok è per quello Si facevano i tatuaggi In nome della dea Della caccia Che belle Queste sono le I carri nave Dei Dalish Qui l'hanno fatti Molto più bene Il primo erano Dei carri di merda Bruttissimi Oh che bellina Ho appena capito Perché Se ne vuole andare A fangulo Perché è una persona Normale Sicuramente La maestra Gli assemble Gli umani Sono dei pezzi Di merda Ripeti Gli umani Sono persone No pezzi di merda Persone Pezzi di merda Ho detto Non ce la faceva Ad essere cattiva Ha detto Scusate Visto che ho detto Che sono pezzi di merda Posso andargli a incontrare Sì ma poi Non vuoi più tornare Penso sia stato Quello il filo Del discorso Però ok Lei ti chiede Scusate Non è Non conosco Un cazzo degli umani Non è che per caso È una cosa brutta Chiedere il nome Bella Che carina La vecchia bastarda Infatti mi sembrava Di averla sentita Da qualche parte Perché io ho giocato Post Origins Un altro Po le altre varie origini Mi sa Che era la guardiana In caso voi fate Il Warden Elfo Da Alish Cioè L'eroe del Il Ferelden Faceva parte Della luna Ma che bella Sta cosa Potrebbe essere peggio Potremmo Piantare di spalare Merda sul Ferelden Ma guardate Che bellina Ma che bella Mica comunque D'estetica I personaggi Sono di Cristo Porco Che cazzo Sta sponando Un gadà Ma che cazzo Stiamo Su un horror Che carina Merrill Ma che teneria Ma scusate Ma i dragone Gidei Sono tutti Bellissimi PG Ma infatti Scusate Ma degli scheletri Come L'hanno droppato Il sangue Avevano Una piccola Borsa Con E spruzzarlo Però bello Come in questo Stanno già mettendo Dall'inizio Un paio di puntini Interessanti Perché non sono Frasi A cazzo Cioè per adesso Mi sta intrigando Un po' mi dispiace Per il roleplay Perché non sarebbe costato Niente Se al posto di quella Rosa di merda Perché noi stiamo Giocando così Ma in origine C'è la rosa di merda Avessero lasciato Il roleplay Del primo Sarebbe stato più bello Invece di mettermi Un riassuntino Del cazzo Che non c'entra niente Perché lei ha detto Proprio cose Che io non gli avrei fatto dire Mettimi la frase Doppiata che dirà Perché tanto ce l'hai Perché ce l'hai Mettimi tutta la frase Doppiata che dice E io scelgo Perché sono molte volte Magari vi mettete A cliccare A scegliere di dire Cose che non vorreste dire E non custava niente Anche perché volevi Mettere comunque la rosa Sì me la metti sempre In basso a sinistra E tutti i testi Verso destra E non ci vuole niente A farla quella roba Vabbè oh Manga fa così Ho schifato Oh lei dispiace Questa potrebbe essere Uno dei pochi Personaggi elfici Che effettivamente Vuole fare una riconciliazione Ebbene Ecco Mannaggia la madonna Questa è una strana cosa Che mi fa incazzare Raga Se nella schetta C'è schetto Stai bene Tu non gli chiedi Posso fare qualcosa Per aiutarti Gli chiedi Oh Tutto bene Così che ti dice le cose Non gli stiamo Proponendo un aiuto Gli stiamo dicendo Che cazzo c'hai Madonna Che posticino Interessi Escono ragni Perché escono ragni No Sicuro Va bene Mercati Che? Si è fatto male lo zio Di chi? Raga Mi dispiace Ma è altissimo Non ce la faccio Mi entrano nel culo Ogni volta che spawnano Sti schifi Nel culo mi entrano È una magia del sangue La magia del sangue in questo gioco Stata è greve Perché è una magia che appunto Utilizza la forza vitale Delle altre persone Come mana Di le prosciuga Ma è greve soprattutto Perché è essenzialmente Il vampirismo anche Puoi entrare nella testa Delle persone Puoi perseguitarle Nei sogni Puoi controllarle Mentalmente Praticamente Non lascia tracce Lei ha evocato Uno spirito Che ha rotto la barriera Diamo Per scontato Che Ruga Ha un'infarinatura base Perché comunque Il padre era un mago La sorella era un mago Ci ha vissuto lì in mezzo Vuoi dire il demone Qui è dove i vecchi elfi Venivano a fare l'ut nera Venivano a riposare Per l'eternità Perché un tempo Gli elfi erano immortali Quindi a un certo punto Però dicevano Ok Ho dato il mio Si mettevano in una parte In meditazione E rimanevano lì Per sempre Questo era dove Venivano a fare sta roba Minchia ma sta roba Di loro è bellissimo Non si alzeranno per niente Tutti quei non morti Oh un orrore arcano Belli madò Ti devo distruggere Immediatamente il culo Tu sei pericoloso Il mago È sempre il primo Che va seccato Però è stato bello Perché lei ci ha detto Io non ho evocato Pure questa cosa Ci avevo preso Perché loro Li differenziano In spiriti e demoni Giusto per dire Brutto e cattivo Spirito dell'orgoglio Del desiderio Brutto Perché dall'altra parte Invece La giustizia L'onore L'amore Perché sono sentimenti belli Però so la stessa cosa Un altro guerrieri d'ombra Ma non è che i guerrieri d'ombra Sono effettivamente Gli spiriti degli elfi Che sono rimasti Butto roba random Visto che fino adesso Praticamente per il 90% Sono sempre accappato Ragazzi eh Notare Non blind Però perché Però perché Flemeth vorrebbe mettere Un amuleto Su un altare Di un antico cimitero Cioè perché è un cimitero A tutti gli effetti Di elfi che facevano Luthnera Anello del magister Bella questa roba Meet l'amuleto Vuole 7 etti di prosciutto Eppure 2 di mortadella Oh hai cantato No Aspetta la cu- Ah E qui siamo Andaranatisyan Ashabalana Una delle persone Che vedo Che si è 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 Che ne so Che Madonna Tu sei veramente l'ingarnazione di un dio antico elfico Oh il ricettacolo C'è una sorta di cristiana che la porta Perché la chiama l'antico popolo Tu sei qualcosa di me Hanno pronunciato troppe volte antichi dèi Questa cazzi e mazzi Ti ho portato fin qui No non è lei Perché aveva bisogno di una sua proiezione qua Ok Ecco come è sopravvissuta al primo quindi Perché noi nel primo l'avevamo uccisa con Malbeth Lei Sono due le cose ragazzi O è perché ha campato talmente tanti anni Che quindi ormai sa leggere negli schemi Ha campato non so 20.000 anni Quando vi butto data random Ha campato anni 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 Quindi quando vedete due tre cose Fabbè sia lo solito schema che mi hanno fatto 4.000 anni fa Oppure effettivamente vede avanti nel futuro Perché Morrigan poi l'ha Insieme al nostro protagonista nel primo Ed effettivamente è morta Ma è sopravvissuta perché ha preso un piccolo pezzo di se stessa L'ha messo nell'amuleto E se ne è andata a fanculo Il che mi preoccupa Perché è ancora UPSFAC E quindi è solo mini Perché non sei venuta di persona? E sei reale? Lei mi preoccupa sempre di più ragazzi Io ho il terrore di sta donna Di sta donna Di sta cosa E adesso che succede? Mi uccidi? Di minuto Di minuto Sì ma se mi butto in un dirupo e poi non so volare ma Io ho un culo Cioè io non sono Cazzo se Non sono una bestia di satana Rincarnata 27 volte Cioè Nel senso Deve essere bella per le ali Esatto Sì comunque lei parla sempre da fatta Ciao Ciao Così quindi Non ti trasformi in drago Zia ma tu non puoi trasformarti in drago a random Cioè se vedono un drago vicino a Kirkwall è la fine De duco non gliene sbatta un cazzo De duco che lei non la rivedremo Giustamente se è veramente ci ho preso anche alla lontana su quello che è lei Ma che cazzo gliene sbatte? Eh secondo me Eh secondo me Di tenente nel primo anno Madonna è un mostro Ah dici che magari potrebbe essere stato venduto e volontariamente chiude in sacco troppe volte l'occhi per le strade Ok quindi a tutti gli effetti Aveline mi sa diventerà il capitano delle guardie di Kirkwall E quindi un po' purificherà l'aria che gira figata Oh è vero a chi aspettava quella pattuglia? Perché mi sa che era una trappola per togliere ieri dalle palle qualcuno Perché Tatt abbiamo letto dai Codex che lei è molto debiterice nei nostri confronti Ed è una persona che pur di difendere le persone a lei cara è veramente disposta a morire I Codex è un peccato in realtà dei personaggi che lei li abbiano fatti in quel modo Perché sono un po' spoilerini Finché sono tipo di Bethany Della mamma Del padre Potevo pure accettarli Perché ci hai vissuto Quindi ti dicono Ok tu di tuo fratello Di tua sorella Chi cazzo è Sai queste cose Però dirmi anche di Aveline Di Varric Un po' come pensano Succedeva anche nel primo gioco Ma piano piano che tu imparavi a conoscerli Tu non è che ci parlavi Ok questo è il suo identikit Però è figo Perché ti fa anche magari Ti dà una mano sul come gestirti il roleplay Se ti vuoi fare amico qualcuno Se vuoi andare in linea anche con i pensieri di un determinato PG Esatto nel primo era meglio perché tu dovevi Non dico andare quasi trial and error Però ni Cioè perché tipo tu con Stan a forza di parlare E aumentavi il rapporto con lui E lo abbassavi Ti diceva Eh c'ha una strana tendenza per l'arte Quindi scoprivi che gli dovevi dare i quadri Gli entriamo nella testolina E diciamo Ok tu sei fatto così brutalmente Cioè quindi hanno mandato lei da sola a fare quella pattuglia E praticamente il monte Che quindi non si sa perché doveva andare a fare quella pattuglia Una guardia cittadina che va a fare la guardia in giro al mondo Non si sa Sareste stata da sola? Parte quello Ah ok Essenzialmente lei doveva essere L'agnello sacrificale Gli hanno messo magari una somma di denaro Che dovevano dare agli schiavisti L'hanno mandato da sola L'ammazzavano E così lo mascheravano come L'hanno ammazzata E gli hanno fottuto i soldi Eh una montatura per consegnare la bordo Perché c'ho Il vago presentimento Che questo Donnick Sarà il suo nuovo marito Sì infatti diciamo che Non saranno del Ferelden Sti tizi Ma non stanno così tanto lontani In intelligenza Perché non è per niente Ah beh che se tanto Cioè il fatto è che la corruzione Non è che sta Nelle foglie Sta nella radice Cioè il problema è quello È che la corruzione Sta dal capo Delle guardie cittadine Quindi è un puttanaio Proprio lì Cioè tu puoi fare Essenzialmente il cazzo che vuoi Che bella The Not Cioè mi stai di che The Not È letteralmente tipo L'open world In cui puoi killare i ladri Eh la madonna Mi sembrano un po' tanti Ah ricordiamo che la volta scorsa Abbiamo aumentato anche la difficoltà Siamo passati a difficile Ah cioè questo era proprio Un incontro casuale Cioè se tu vai in giro di notte Ci stanno i criminali Cioè abbiamo un primo punto classe Io per adesso Non gliela do Siccome con Malbet È la prima volta Che abbiamo preso il punto Per fare la specializzazione Io me lo sono tenuto Per tanti livelli Io devo dargli Una motivazione Non diventerà mai un templare Ma deve esserci Un momento in cui io Il distruttore In Dragoneggio Origins Era una persona Che beveva il sangue di drago Se infondeva Con il potere del drago Io il sangue di drago Dove l'ho preso? Sono andato al mercato L'ho comprato da uno stronzo No Quindi per adesso Niente sotto classe Andiamo su altro Eh andiamo Oh finalmente turbine Aspettiamo un po' Di sviluppo Del personaggio Per dargli La prima sotto classe Penso daremo Quella del drago Ma devo trovare I giusti motivi Sì andiamo a parare Il culo Dammi un attimo Perché sei così Ah beh perché è una guardia O perché sei interessata A Donnick Fai l'onesta Hai già dimenticato Wesley Che per carità Sono contento Mi dispiace per lui Ma sono contento per te E adesso Si va Con la mossa Che nel tutorial Ha devastato tutto Vediamo 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 Quattro Madonna comunque Il guerriero è Ma il mago Si è esposta Giusto perché sta a distanza Ma Ma state a capire Mi ha fatto ridere ragazzi Perché è stato letteralmente Un angelo Lei subito Col sorriso A 32 denti Vabbè Giustamente lei Essendo maschiaccio Essendo strong girl Appena qualcuno gli dice Oh sei un angelo Sei bella Sei soave Sei scioglie Un complotto Degno di un politico Sperando che il visconte Non sia Inciuciato E la madonna Un due tre Stella Qua hanno detto Vabbè ma mettiamo nemici a cazzo Raga Continua a spawnare gente Questi sono proprio scontri Sono urde Proprio Ma enormi Però vedi Pure questa cosa Cioè vedi Questa è sempre che si ricollega All'interfaccia grafica Ma come vi viene in mente Di fare sta cosa Come vi viene in mente Di mettere delle scritte E poi blu notte Sopra le barre C'è la cosa che Se io seleziono lo stronzo Appare la sua barra della vita E compagnia Mettigli a fianco Dei simboletti Che se io ci vado Con il mouse sopra Tipo Ok Questo è stannato Questo è quello E me li leggo Stavano di corsa Sì quello ok Però cazzarola E proprio Anche esteticamente Voi in live sicuro Non le leggete Io astento Ma allora giriamo un po' Perché questa è XP Raga Io tra l'altro A leggere È rivolta ai geni Ai geni Della tattica Che non si accontentano Del livello difficile Prendi la mira Con la massima precisione Visto che i tuoi attacchi E i tuoi incantesimi Possono danneggiare Gli alleati Oltre ai nemici Ok Cioè Dragon Age Origins Malbette ogni volta Faceva i tornati Seccava tutti Siamo ad incubo Siamo ad incubo ragazzi Ma aspetta Tutte le abilità Cioè Se io uso Turbine Turbine fa danno Agli alleati Adesso Perché se anche Sul melee È fichissimo È molto figo Perché giustamente Il guerriere è diventata Una macchina da guerra Ma è una macchina da guerra Per tutti In caso Vediamo quanto danno fa Arruca Una palla di fuoco Vabbè È giustamente Il barbaro di D&D Che si pende Una palla di fuoco Cioè nel senso Però se diventa Magari resistente Alla magia Puoi usarla Come tattica Puoi tankarti La palla di fuoco Che bello Però di ambientazione Mi immagino Un Dragon Age 2 Magari fatto come il primo Anche sotto il punto Dei star roleplay Sviluppato per bene Non andiamo giù Ah madonna Pensavo lo stesso Accoltellando ragazzi Che infarto Ah 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 Io le adoro L'espressione di Aveline Perché è proprio onesta Mi sa che Aveline È tipo L'Alister di questo gioco Ah E guarda sta faccia Sono diventata Un pezzo grosso Scusate ma quindi Aveline Mettiamo che Mo c'ha sei mesi Di allenamento Aveline in un anno E mezzo È arrivata N'era un cazzo Di nessuno Zero Era l'ultima Stronza del Ferelden È diventato Capitano delle guardie Cioè che per carità So è contento Per Aveline In realtà Queste capisco Che sono le basi Del primo capitolo Ti faranno vedere Gli sviluppi Di ogni PG Verso una direzione E poi O che magari Effettivamente Non dico che Pulirà Kirkwall Ma quasi Ci separeremo Per fortuna Non vi perderò All'ora Ma proprio Pussy bloccato Giustamente Siamo una donna Non è cockblock È pussyblock Che mi ha fatto No you don't Brutalmente Però voglio farla Ruga molto Che flerta anche Minchia Ah perché giustamente Si spiega anche Perché è così esteticamente Perché prima Kirkwall Dai codex Che abbiamo letto Era una gigantesca Miniera Che aveva fino a Un milione di schiavi E scavavano qua È per questo Che è così Perché effettivamente È una miniera L'imparo Tevinter La sua influenza È più radicata Che mai Senza il Tevinter Non sarebbero mai Esistiti I flagelli Andraste O la chiesa Vero Oh madonna Mi è arrivata Una freccia di lore Qua grossa Come l'era Della madonna E anche i custodi grigi I primi custodi grigi Erano dell'imparo Tevinter Perché io Ho sempre detto Per tutto il gioco Scusa Ma come cazzo Ti viene in mente Di fare Sangue di prollo scura Sangue di arci Demone E trincattelo Cioè Chi cazzo Gli viene in mente Se non Ai maghi del Tevinter Che erano Molto così così Con i prollo scura Li studiavano I maghi matti del Tevinter Sì Perché si ricollegherebbe Anche al primo custode Che c'ha uno sbrego De anni Da quel che abbiamo capito E se è un mago del Tevinter I maghi del Tevinter Sono duri Perché usano La magia del sangue Se perdonatemi Mi è partito Proprio I neuroni Hanno fatto Sette collegamenti Insieme E la madonna Cioè questo Era lo scandinato De casa vostra Facciamo il test Avelin Quanta vita c'hai? Proviamo a far sta cazzà Anzi avvicinatevi Avelin Quanta vita c'hai? Ah sì Ok Fa danno anche Con la roba milì Figata Bello bello Mi piace che mi devo gestire Anche questa roba La famiglia Amel Questo è interessante Poi arriva il figlio Della povera Rekva Poteri magici Una delle più prestigiosi Famiglie di Kirko Immaginate lo scandalo Se fosse stato scelto lui Il bambino venne subito Affidato al circolo Ma le Questo è un collegamento Al Amel Che saremo potuti essere noi Perché se voi Scegliete L'umano C'ha di cognome Amel È il noi Che saremo potuti essere umani L'hanno sparato subito Nel circolo Povero Minchia ma quindi Amel erano destinati Paradossalmente A governare Kirkwall Eh se dovevano diventare I nuovi viscondi Almeno il capoccia Della famiglia Dovevano governare Su Kirkwall Perché infatti poi Scusate A Kirkwall Il magister Sceglieva i visconti Uno c'ha la magia O mandi a fangulo Ma a me sta a piacere il culo E che ti pareva Che il capo degli schiavisti Era un mago di merda Allora salve Stun Si sa Oh cazzo Ho preso tutti ragazzi Non ne ho missato Uno non ne ho missato Ho quasi shottato Bethany Bethany Porca puttana Sorella Bastarda maledetta Mi sta mandando Tutte le bestemmie Io non posso Uscire da Ruka Perché ha appena Utilizzato Turbine In mezzo a tutti gli alleati Infatti mi sa Che è rivolata Bethany Eccola qua giù ragazzi Ma che cazzo è Quell'incantesimo Tipo Shield di D&D Oh bello C'hanno anche Le linee di dialogo Uniche Per dire Avelin Sta giù No che cazzo Spari Palla di fuoco Raga Ma si è ammazzata Pure da sola Vi ricordate Nelle prime live Tirava Esatto Bombarda Maxima E shottava gli avversari Se ci stiamo in mezzo a noi Adesso shotta pure noi Ha proprio detto Ma si Puto In mezzo a tutti Aspettate Boni Boni Perché lei è pericolosa Togli Togli Spegni Spegni tutto Perché raga Ha tirato Ha fatto più danni Ti gestirò io Tutta la magia A te Però tu stai lontana Da quegli incantesimi Porca puttana Devo gestirmele io A questa difficoltà Lo capisco E in un po' di riso Diventano strategi gattoni Avete visto Che in realtà è anche più figo Giocato così Avete visto che ci è voluto A non morire come degli stronzi Ma perché prima raga Tutti i danni che ci stavamo Prendendo sui denti Fortissimo Era betani Ogni tanto faceva Si e palla de foco E come se su D&D Il mago del gruppo Si mette a spara Incantesimi sugli alleati E che cazzo volete Che succede Ultima volontà Del testamento di nonno a Mel Cioè stai a chiedere pure Che te paghiamo Vabbè ovvio Ovviamente Continuate a leggere madre Perché è un figlio di puttana Mi dispiace per vostra madre Tutto il tempo Che c'era Bisogno Perché è mia la roba Cioè nel senso Io non sto qua Ma se sul contratto C'è scritto È mia È mia Cioè nel senso Tu le mani Te le dovevi piantare in culo Avevate fretta eh No Tu sei troppo bonacciona Cioè tu Io Perché la madre Fa cazzo Ma no raga È partito proprio male il gioco Quando prima è crashato È successo un puttanaio E questi a inizio live C'erano Si è venduto pure le text Sì Parte questo Abbiamo sistemato tutto con Ok ho fatto la cazzata Vogliamo eliminare il fatto Che ti stava chiedendo Di pagare l'affitto Cioè non solo Ti si è ingulata a sangue Poi è venuto pure A fare la faccia tosta Del Due spi Dai Cioè è giusto per ripagare il cibo Se mi pagate un po' D'affitto Ma questo sarebbe da Spaccarlo sul posto Meno male che non me l'hai dato il roleplay Io lo scapocciavo Se ero con Ruka Eh effettivamente Poi sotto sto punto di vista È vero eh Perché almeno la madre Lei Cioè in generale La nostra famiglia Ha scoperto che insomma I nostri nonni non ci odiavano Non ci disperzavano Anzi magari hanno anche capito Quel che abbiamo fatto E compagnia Ok Fa vedere Ok sono tornate le texture Ragazzi Erano andate un attimo in vacanza Siamo andati al mercato Dove me le aveva Vendute gamlen Adesso le abbiamo ricomprate Fresche fresche proprio Veniamo subito All'offerta Stavo pensando La stessa cosa Va Rick Lo sai che ti ammazzano Sì Perché questo farà La stessa fine Dello stronzetto Che ci stava Nel DLC di Origins Che poi venne È stato cacciato Perché giustamente La polvere da sparo L'ingegneria Quelle robe lì Che non sia magia Ce l'ha solo il Qun Per adesso Sembra uguale alla magia Se fa esplosioni Per Ruka So it's some kind Problem Sì zio ma tu vuol dire Che non sai Un cazzo dei Qunari Cioè nel senso Zio Se uccido io I Talbashot E andiamo dall'Arishock E gli facciamo Senti Ha ucciso I Talbashot Lui letteralmente fa Ok tu non me ne frega Un cazzo del nano E parla con me Se stiamo capendo Durante tutta Origin Come ragionano I Qunari Lui dice Tu non hai fatto un cazzo Però Era un drago O me l'ho immaginato Raga questa è un'area Troppo grande Ci sta un cazzo di drago No ci stanno dei banditi Meno male Io devo combattere da solo Perché se sto vicino Agli alleati Gli faccio male Siamo ad Incubo Matt Oltre ci sono solo Le mod credo Oh scusa Avelin La Fossa delle Os Ma perché infatti Si chiama la Fossa delle Os Perché ci buttavano Tutti i cadaveri Degli schiavi Il cavo squadra Ha fatto allineare 17 schiavi Uno dietro l'altro Sul cio della cava Allo secondo schiavo Della fila è stato Ci sono i cultisti Del drago Questo buttava Gli schiavi giù Per dargli Impasto a loro Così che questo Faceva quella roba Che c'era anche in origine Mi sa Madonna Quelli laggiù Sono tutti i cadaveri Tutte ossa Perché probabilmente Che facevano Per renderli ancora più produttivi Che hanno fatto Fa quella sorta di rituale Che facevano anche I matti in culo Peccato che noi sappiamo Di lore Che quei matti in culo Cioè diventano matti in culo Perché fanno il rituale Cioè mangiare I cuori La carne E bere il sangue È greve Anche perché C'ha pure senso Noi sappiamo Dai codex di origins Che i draghi Dove fanno più volentieri Le figliate Le cucciolate Dentro le grotte profonde E quale Miglior posto Se non una miniera Questi ha incubo E vabbè anche No quello è un drago Cresciuto Ah la fitta Eh questi Sono anche molto resistenti Gli avversari Mi sa che lo aggiungiamo Agli avversari Perché ha stannato Anche i suoi Mamma Ma quindi Aspettate Ho un pretesto Per fare la sottoclasse Mi state dicendo Sì madonna Mi sa veramente Tanto di zone Che riutilizzeranno A SPAC Perché non avevano Tempo per crearne altre Però sono fatte bene Almeno Delirium Delirium Ciappa Sì possiamo fare Le prime rune di merda Eh beh avete trovato Un nido Allora le cazzi Però il dialogo Di per sé Sono un po' peggiorati Quello che dice Il nostro protagonista Però di per sé I dialoghi nelle cazzi Nei modi che c'hanno Da agire Anche nel numero Di animazioni Che c'hanno De fare le cose Sono veramente Sai Perché nel primo Erano loro stoccapissi Che facevano Battuta 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 E ci avevano Tre animazioni Qua invece Ne sto vedendo parecchie Sotto il punto di vista Dell'estetica Sono evoluti Tantissimo E mi dispiace Perché Mo Perché da Siamo ancora all'inizio Eh Non si sa Però Dragon Age 2 Poteva veramente Essere Un me coglioni Perché per alcuni versi Per adesso Mi piace quasi di più Di Inquisition Perché Inquisition Purtroppo hanno usato Quel motore grafico Non mi ricordo se si chiama Tipo il Frostbite Che non è fatto Essenzialmente per quei giochi Almeno quello che hanno utilizzato Io mi immagino Un Dragon Age 2 Con il contro Coglioni Col tempo giusto Come il primo Con quel roleplay Che cazzo Poteva essere Cioè non è che è brutto Per adesso Anzi Per adesso Un sacco di cose Mi stanno piacendo Un botto di più Vabbè quindi siamo Ma veramente Ah ok Etichetta giusta Drago E adesso siamo morti Tu vieni qua Devi fare da buone MMO Provocare Ha resistito Però devi fare L'ora inamovibile Devi continuare A trapassarlo Di colpi Ruka tu Fagli alle spalle Perché dobbiamo fare Proprio MMO Cioè questo Non deve poter fare Le cose sue Poi si sono ispirati Quasi molto di più A D&D Questo mi sa di Mostro di taglia large No? Che occupa due caselle Ah posso farla solo su di lui Visto che è di taglia large Figa come cosa Madonna che belle le animazioni Bellissime Bravi Madonna Il botto di scudo Ti fa rientrare subito In fight Ok Zanna di drago Salve Vabbè perché ci sono stati Cacciati i draghi Ma no Non saranno al sicuro Ti ho detto che c'era Una cucciola Cioè c'è Lo farò per i lavoratori Come mai tanta generosità Perché è uno stronzo Che pur di mantenere La miniera Questo è italiano Palesemente Ok tipo con Aveline L'amacizia ha fatto Più 5 Perché abbiamo detto Stronzo Matteo una mano Se gli avessimo Proprio detto No no Magari avrebbe fatto Più 10 Essenzialmente Che bella però la diversità Di gente che c'è a Kirchol C'è veramente di tutto Nani Umani Tanto abbiamo scoperto Che questa roba qui È la villa Del fratello Di Varric E di Varric Cioè per questo ci sono Ci sono i nani Insomma i campioni Perché li ha fatti rifare lui È la villa di famiglia Che bella sta vest Di che cos'è Tipo della chiesa Dobbiamo anche un attimo Capire come hanno reworkato Pure l'estetica Di un sacco di cose importanti Perché poi serve per Praticamente guardarli E riconosce Che bello Ma quanta roba unica Estetica però cazzo Che potenziale Che poi per carità Io immagino che questa estetica Si sia mantenuta Ma non sei morto allora E Aromont È la controparte di Belen Perché vogliono uccidervi Ah no ok È un parente Infatti perché era stato Giustiziato da Belen Non capivo È un parente Vi aiuterò Potrebbe incazzarsi Varric però Ah c'è proprio Giunta la tua ora Va bene Uccidiamo Aromont Cioè non ci sta neanche Chi cazzo sei Ma muore Tra l'altro questo È un senza casta C'hai da tu agi Tenente del carta Ho quasi shot Ma Varric Ma perché tu stai In prima linea In grazia del padre eterno Si metti in prima linea Cristo Dio Sè la madonna La madonna Ho capito Vai giochiamo di Aue Giochiamo di Aue Merde Allora comunque Non si sono regolati eh Quella quantità di nemici Vogliono proprio flexare Perché non si sono regolati Cioè guardate Ma proprio Gente a random A random Si si C'è i pro l'oscura Niente Come ci hanno fatto A surclassare In ambero di numeri In ambero In ambito di numeri Devo saperlo adesso Ti do un 3 livelli Su volontà Perché ti servono Mi hanno dato la cosa Rook è stata Affascinata Dal potere Dei draghi E si prenderà il distruttore Anche perché Sono abbastanza sicuro Che rispetto al primo Non ci sarà Mango Mezzo cazzo Di roleplay Per queste cose Cioè se nel primo Ci avevamo avuto I discorsi con Wine No Il capire Se vuoi usare La magia Del sangue Degli spiriti Non ci Non credo Diciamo Dopo aver affrontato I draghi Ha bevuto Accidentalmente Del sangue L'ha uvegenato Piano piano Il potere Del piccione Dragonico Eh si Mamma mia Ma avete dato Una Una moneta d'oro Vabbè che adesso Abbiamo un'alleanza Comunque con un lord Dei armont Ok Però Dio cri Ci facciamo gli ultimi Giuretti Ok perché tanto Io immagino che tipo La spedizione Le vie profonde Sia lo step Letteralmente Ok tu hai fatto questo Andiamo alla prossima Parte di trama Quindi mi sa che Staremo qui ancora Tipo due tre live Come minimo Ho capito Sono appena arrivato Subito a caccare la minchia Quanto pare si Madonna comunque La magia è ancora più rotta Giustamente Ah congelato anche me Che non ho letto Tutto il perk Che mi sa che adesso È tipo un'esplosione Un piccolo Aoeco La roba Colpiscono i nemici Nei pressi del bersaglio Adesso pure stretta invernale Un piccolo aoe Ho capito raga Ma incubo Non puoi usare Una skill Che ci stanno Puttanai Mamma mia Varric Che buono Che mi sono fermato Pelo pelo Ho capito Prima o poi Quel cazzo di mago Dovrà uscire Da quello scudo O vuole rimanere Lì a vita Non ho capito Bussa e vedi Si Toc toc Come va Qua Tutto bene Cazzo è andato No l'abbiamo congelato Sul posto Prima che si tipizzasse Becca Puttana Troppo Resti di Silsam Mezza treccia Noi ogni tanto Pichiamo i cadaveri Cioè Varric a fianco Butta dentro Vai Che non si sa mai Che vuole qualcuno Noi troviamo Gente morta Se la portamo via Brutalmente Allora questa immagino Che sia una cosa A cui mi dovrò abituare Vedo ragazzi Cioè ogni tanto Troveremo della roba Che hanno dovuto mettere Per dire ok Qua c'è deve stare sto roba Ma non c'ho tempo Per contestualizzarlo Cioè giusto per non avere La stanza vuota Hanno detto Mette c'è due stronzi Dei bassi fondi Infatti si vede Che si sono sbizzarriti Tanto nei codex Cioè tipo La descrizione Della pianta Della radice Mortale No Cioè ci hanno messo Proprio l'anima L'anima per farla Codex E tutta l'ambientazione Quella Proprio pura Chiamasi scrittura E compagnia E ci si sono fatti E ci avevano lì Appresso Io non gliene faccio Neanche una colpa ragazzi Se voi avete il vostro Dottore di lavoro Che vi dicete Fa un lavoro Che ci dovrebbero Volere sei anni In due In uno Anzi mi avete detto I poveri cristi Che devono fare Raga Eh gli hanno detto Fai quello E quelli hanno fatto quello Ha fatto quattro Crette di fila Il Crette sta sia nel rumore Che nei numeri Come vengono esposti Finiamo con te Ciao la depressione Adesso appare Sirius Black Nel fuoco Ah ok Sembra entusiasta Oh Eh vedete Lei non è felice Desta cosa Certo Tutta sta cosa Purtroppo è sempre causata Dal problema Oh bene Mi ci sei più 10 È sempre causata Purtroppo dal problema La radice Cioè Ok la magia brutta Fai esplodire i bambini E tutto Però Questo St'angoscia Che c'hanno entrambe È nata dal fatto Che i templari Li cacciano Come se fossero Delle bestie Cioè appena ne vedono uno fuori Veramente Dicono O vieni con noi O te scrocchiamo Anzi molto probabilmente Se sei adulto Te scrocchiano Perché dicono Ok tu dovresti già di base Stare in un circolo Perché li pigliano da bambini Perché stasera Si fa Massuolamento di massa Si Chilla tutto Si chilla Siamo qua Dalla volta scorsa Come vi ho detto Sono andato all'emporio nero Ho fatto un respec E essenzialmente ho tolto Quell'unica abilità Che mi faceva cagare al Ruka Che era messa automaticamente Questa è una cosa Che dei GDR Mi dà il cazzo fortissimo Il PG È il mio Che cosa mi metti Le skill Come vuoi tu Lo faccio io Tieni giù le mani Porca di quella puttana Potevano farti scegliere Come su Dragon Age Origins Le skill inizialmente No che tutti fanno prendere Quelle due tre cazzatine Ma comunque Siamo qui E perché dico che stasera Si mazzuolano tante persone Perché La volta scorsa Abbiamo scoperto che Andando in giro di notte Ci sono uno Sfroppo di incontri casuali Quella è XP Che da l'altro L'ultima cosa Che ho aggiunto La volta scorsa È stato divorare Cioè quel punto Che ho tolto Da attacco col pomolo Che cazzo era Ci ho preso divorare La build Che ho cercato un attimo Di cacciare fuori Visto che siamo ad incubo È che noi entriamo Di spaccatura Che ci power up A spack Ed essenzialmente Vedete tutte queste persone Succede questo Perché il guerriero È una macchina Da guerra Fortissima Indicazioni per la base Delle zanne di acqua scarlatte Il nostro obiettivo È l'entroterra Abbiamo una nuova base Qui al porto Ma l'itch Rebooting RWT Una missione Le zanne delle acque rosse Hanno invaso il porto Ripulisci loro Ma scusa Ma io ho ammazzato Gente a random Mi hanno dato una quest Secondaria Ma stai a far serio Ma tutta sta roba Non può nascondersi Per sempre Ripulisci loro Nascondiglio Praticamente siamo Siamo l'SS Dei banditi Noi Cioè diciamo che Il guerriero è Faccio un 360 Della madonna enorme E con l'attacco Impicchiata Faccio una OE E faccio una carica Che prende tutti quelli davanti E con la combo base Prendo tutti quelli Che c'ho vicini al bersaglio Cioè Allora ci stanno per saltare Al co... Eh l'amadol Eccolo l'ilic C'è la mia controparte Tarocca ragazzi Oh è un mago del sangue Mi sta succhiando il sangue Bravo Così mi potenzi Merda Zucchia il ca... Troppo 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 Però mi devo curare Era questo il vostro Massimo? Mi piace anche immaginare Luca nel combattimento Che più si sbrega Se fa i danni Diventa più Un collaborato Va più in regge È una cosa di Roleplay anche molto D&D esco Cioè il barbaro Che si prende 60 danni sui denti Invece si incazza ancora di più Che tra l'altro Ho scoperto Che ci sono tante piccole cose Ad incubo Tipo che durante un fight Io non so se è per tutto il party Me l'avete già accennato voi Ma noi possiamo usare Massimo 4 pozioni Io non so se sono 4 pozioni a testa O 4 per party E ci sta tipo il 200% di possibilità di colpire E il 150% dei danni E dovrebbe avere anche leggermente più vita Ancora gente Attiriamoli fuori Smash Eh ho preso pure Aveline Porca puttana Devo ancora abituarmi Sarsi ma Aveline ogni tanto Proprio secondo me Se gira verso Luca Gli fa porca Ma Bestemmia fortissimo Perché Si prende proprio Delle pizze Fortissime Qua abbiamo fatto Ok E XP Perché Questo di lore Non ha niente Se non Sono un legale buono Un generale Un buono Che vuole eliminare La malavita Ah questo è quello Che ci crafta i veleni Ok Minghia Chissà che cazzo Sembrava chi fosse Ah infatti Io non ci ho pensato Le prime volte Ma giustamente Ogni volta che noi Prendevamo un fungo C'era scritto Guarda questo è il cancro Questo è il veleno Questo se solo L'odore muori E giustamente Serve per fare i veleni E in realtà Devo vedere pure Se i veleni Non gli hanno tolto I requisiti In Origins Il veleno Poteva usarlo Soltanto il ladro Cioè se io posso Mettermi lo spadone Baffato Col veleno E avvine Di una madonna Che ti avvelena pure Chi sei tu E cos'è E un mischio Tra un Che babbaro Un mongolo Immagino tu sia Il capo degli schiavisti Però non credo Che nella città superiore C'è sta gente Da mazzuola E dove ci stanno Le persone normali Qua E ce lo facciamo Un giro rapido Magari andiamo anche Nel bordello Giusto per vedere Provedere La madonna Finta guardia Pure Aveline Perché si è presa Una pizza Sui denti Guarda Ruka Come va da sola Io non ho bisogno Di support Io sono Il support Minchiavo Questi sono stronzi Perché giustamente Sono armati Come Cristo Commanda Io spero che Però sta cosa Non vada fatta In ogni sezione Perché Ok XP Tutto quello Che volete Però Non è che io Per farmare XP Perché sono A incubo Perché questa roba Ragazzi dobbiamo farla Perché siamo ad incubo Quindi ci serve L'XP Perché adesso Ok Stiamo bene Ma più avanti Penso che diventano Duretti Andiamo a vedere La rosa fiorita Vediamo se hanno fatto Anche qualche cosa extra Ah Stanno scopando Ragazzi Infatti dicevo Scusa ma che sono tutti Sti lamenti in giro Mi sono ricordato Che siamo in un bordello Non posso censurare Ragazzi è un bordello Che cosa fanno Gamlen E che ti pareva Che Gamlen Di notte Stava al bordello Non c'hai soldi Neanche per piangere Oh Ma figata Io non mi aspettavo Di trovare Dell'erotismo Cioè Erotismo Sembra un cazzo De Pasqualone Però avete capito L'antifona Solo elfe Sì Perché giustamente La città degli schiavi elfici E che non ci stanno Soltanto elfe Ma io voglio le cunari Io voglio una cunari Che mi prende Mi lega al letto E lasciamo perdere Ma tu sei un templare Che ci fai al bordello Tanto qua ci sono due quest Miran conti in sospeso E Topai a fiori di spillo Ho ricevuto la tua lettera Parlami del bersaglio Non uccido In cambio di soldi Finché è libera Dai briganti Dai banditi Ok Qua tu mi stai letteralmente Assoldando Per fare un assassino Per togliere Una persona influente Non è compito mio Oh Minchia che belle Ste cose di caricamento Che ti danno il mood Della zona in cui entri Figata Cavolo Varric Infatti lo stavo pensando Cioè Scusate Dobbiamo fare una Pedizione nelle vie profonde Stare un bel chazzo Manco c'è il punto Per entrare Abbiamo un cattivo ingresso E che ci fa qua No non può essere Malbeth Oh bello Qua ti fanno prendere un punto Come puoi esserne così sicuro Neanche perché comunque Comincia a fidarsi Di Varric Cioè vede che gli ha dato fiducia Quindi restituisce fiducia Sempre se riusciremo A farlo parlare Ok Rivalità più 15 Ecco mi sa che questa C'è dato più 15 Su Varric Perché si vede che Nella ruota Dei dialoghi Era quella col pugno E ho capito che questo gioco Va molto Sotto quel punto di vista È Varric Se fai le risposte rosse Si incazza Però Vogliamo andare di roleplay Queste le cose Che ci dobbiamo beccare Gli ha dato Un gomitolo Che lo attacca magari Alla porta di casa E se lo porta in giro Meryl però Bella te mamma Perché sei venuta in città Portacci Tu avventure Tu dici qualcosa Che cazzo C'ha parla Sopra la nondagna Non hai il fegato Di combattere Bello Questa è la cosa Che ci hanno detto Anche la volta scorsa Lui dice Che non è un Kunari Perché il Kunari Non è la razza È la religione Dice Io non sono un Kunari Non sono un servo Un seguace Del Kun Unisciti a me Per affrontarli Bellissimo Il modello Perché l'abbiamo sempre visto Con Stan Ma è veramente figo In tal cazzo Ti ha soldo Fate un affanculo Dai a cagare Non ti voglio neanche più sentire Sei semplicemente Un piccione di merda Che deve rompere i coglioni Che lui sta laggiù Che ti fa Io l'ho avvertito eh Sono potentissimi Io l'ho avvertito Ma andatevene a Un Kunari Del cazzo La caverna Dei Talva Shot Vedete ci ho preso Da davanti c'era il carretto E ora non più Lì giù c'è sta Ruka Stai in mezzo a quattro persone Una cazzo Di one man army Ragazzi Queste sono le waifu Vabbè È diventato D&D C'ha un attacco Da layer Vai Ruka Minchia Lui faccio 29 danni Ah perché mi sa Che viene calcolato Come uno di quelli più alti Quindi c'ha i danni ridotti E si è rifullato Ma porca Ma qua siamo tipo Su Origins Raga Matta Naffanculo Fatto da Damantio Minchia Se questo era Un mid boss Il boss finale Che cazzo è Un muro È spawnata Tanta altra gente Cazzarola Uh c'è un mago Eccolo Un sharebass Di Talva Shot C'è un mago È Tu sei morta Però vedete Questa è una cosa Che mi dà un po' al cazzo Invece del gameplay Perché è bello Più nemici Ma non fate che escono Dalle cazzo dei pareti Cioè non sono degli alien Per dio Non li fate uscire a cazzo Perché è solo fastidiosa Come cosa È onestamente fastidiosa E basta Eeeh Vabbè Vabbè Ma scusate Ma quanta gente Ci deve stare Dove se ne è andato Il sharebass Dei miei coglioni Vi sto gestendo Proprio Ma il pianto Sapete che io me li sto gestendo male Anche perché Io devo stare attento Che la roba La gente mi spawna dietro il culo È quella la cosa Che a me mi Destabilizza e mi dà il cazzo Il Io l'ho posizionato Per dargli un vantaggio tattico Ma se tu mi fai spawnare Uno stronzo Da sta colonna qua Che cosa mi vuol dire Poi vedete Ha rispawnato il mago Ha urtato a cazzo Colo È spawnato È spawnato È spawna Eeeh Però non ci arrivo A meno che Varric Non lo riesce a stannare No non si stanna il merda I suoi alleati Vattene a fanculo Merda Vieni qua Stronzo E il mago ce lo siamo fatto È morta Meryl È morto anche Varric Ma va bene Aveline Dobbiamo fare una Umbo combo insieme Questo stun Che appare ogni tanto È il nostro caro Capo dei Talvashot Oh Non gli si ferma Il casting Tu gli puoi tirare addosso La madonna Non Gli si ferma Il casting Ci sta per stannare Perché Aveline È stata shottata Ma il merda Si è ripreso Tutta la vita Non ti curare Non ti curare Non ti curare Non ti curare Rucca 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 Lo vedete questo Questa era la vita Che era rimasta a Rucca Tirato l'ultimo colpo Ha messo lo spadone E detto aspetta O moro O sopravvivo C'è proprio Le ferite Che cosa mi dicono Qua ci dovrebbe essere Il nano Che è andato a parlare Con l'Arishock Vediamo se ci ho preso Madonna Bello Madonna se l'armatura È molto giapponese Cioè almeno Nel mood Pulito Pulito Pensateci voi Primo perché non l'ha uccisi lui Secondo perché ha dimostrato Solo d'essere il Terzo perché si è inventato Pura la prova Perfetto Mi è comunque debitore Ma trovo che bello È tornato Tutto quello che avevo detto Perfetto Beh in tal caso Perché restare Eh Spero di migliorare le cose Mi welcome Ecco qui tipo Per fare un parallelo Con Malbeth Lui avrebbe detto Si tratta di certezza O di schiavitù Rook è più È una minaccia Questo esploderà Ok capito Siete che è proprio l'inizio Ci stanno mettendo Tutti i vari semini Delle cose Che poi si andranno Piano piano A sviluppare All'interno Di tutto il gioco Cazzo De nomi Che c'hanno Tutte e sei compagnie Il figlio Del visconte È stato rapito Da un kunari Io scherzavo Su bombarselo Raga Mi sa che questo Si è innamorato Di un kunari È scappato Con un kunari Io stavo scherzando Questo sta prendendo Il torroncino kunari Nel kunari Tra l'altro Potrebbe starci pure bene No Ma scusa Ma hanno ammazzato il kunari Che sta succedendo Un po' di più Un po' di più Un po' di più Un po' di più Burdel Bella Madonna Che cosa sta arrivando Là di noi Facciamo questo She said she was waiting for more A lot more We're not giving you up Strip the camp And we're ready A fitting welcome Ma scusa Eh vabbè Oh Ma era un kunari Questa roba ragazzi Non c'ha senso Questa roba qua ragazzi È proprio lanciarti gente Da ammazzare in bocca Ma che cazzo Mi vuol dire Che per un kunari Questa si è portata Tutta la banda Di mercenari Si è portata 50 persone Per una persona Eh Si è portata Pure la madre Te la stai cavando bene Good boy La villa de famiglia Me la posso ricomprare Solo questi stronzi Non ammazzati di 70 Ragazzi Sui sterri Fatto Figo Perché belli sono scontri Però io questa cosa La tratterò di lore Come una cosa accurata Però Cioè vuol dire Che o che il suo gruppo Sono delle bestie Sono dei mostri Se il gioco questo mi dici Io lo tratto come lore E o che il suo gruppo Sono delle bestie di satana Aspetta qui Mentre do un'occhiata in giro Perché hanno luttato Cioè Ci stanno 75 cadaveri Madonna Ma Ma vedete poi la cosa Che mi dà anche un po' il cazzo È che tutta quella gente Che abbiamo ammazzato Non ci ha dato un cazzo di xp Cioè Erano proprio dammi Erano messi là per prenderli A sbragate di pizze E basta Pa 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 E ammazzarli Vabbè Tu sei proprio il classico Ragazzino Viziato Ricco Che deve crearsi problemi Essenzialmente Perché lui sta di ste cose Però non sa che i gunari Sono così Perché fin da piccoli Li prendono Non dico a cinghiate Però li indottrinano Come la merda Però qualche decina di morti No problemi Adesso Anche dalla gente Che hanno trying to kill us Mi sono detto Che i vintors Havano involto Se there was no way To avoid an incident They murder my friend Where is the concern for that It was my understanding You were captured alone Foolishly Trapsing about the coast As you do I was not captured I was with a shard the kunari they are not monsters to be feared if you would just try to understand others would see as well better that you thought abducted then to have their influence suspected in my own family the nine or not too much abbiamo capito che i due patatrack che succederanno sui kunari che fanno il bordello e maghi versus templari però qua come al solito è che c'è sta in eccesso da una parte in eccesso dall'altra perché i kunari ok sono squadrati così ma pure loro sono un po test dei cazzo ovviamente questa cosa andrà a esplodere ma anzi ma sapete che è che qua ruga dice io sto a parlare comunque col visconte me ne frega un cazzo io devo anche calcolare che io adesso sono uno stronzo delle vie basse cioè non sono niente di nessuno non ho un impatto come non lo hanno neanche queste texture inesistenti si sta glitchando il gioco ragazzi più andiamo avanti più la fine riccioli d'oro degli sciocchi raga eh mi dispiace ma ci faremo altre due live sul cazzo di primo capitolo raga io non posso toccare oh una caramella hai trovato l'elden ring che cazzo è successo non posso star così vabbè letteralmente o se non vi attaccano non vi attaccate non mentite esisto io e pregate essenzialmente è quello e poi passano il tempo a menarci come ogni fine gioco ci fa vedere sì sì no non vi menate marcia sacra è bello che tu letteralmente c'hai il comandamento tu vai davanti alla papessa senta qua c'ho il comandamento ma noi l'abbiamo sempre rispettato caccio fuori un libro di storia con tutte le marce sacre sicura eh ma so cunari non so dare legione nostra ok va bene signora se lo dice lei ci credo che sicuramente è quella scusa i sfermoni della divina renata senza tex i figli del creatore si riunirono in anzi al suo trono dorato e intonarono in indi lodi infiniti ma il loro canto era il canto dei ciottoli brillavano di una luce dorata riflessa dal trono del creatore reggevano gli standardi che volavano da sole ergo facevano un cazzo di niente facciamo una parafrasi by H adesso ci arriviamo a questa perché qua esce Malbeth qua dietro che cazzo hai detto il creatore? devi sparare una palla di fuoco? però non è stato il creatore questo capace pure io gioca con queste carte ha specificato che fossimo un mago perché era un mago Malbeth qua peccato che non ti danno la possibilità di rispondere eh sì il creatore agisce con un sacco di strumenti ma quindi pure il flagello era colpa del creatore bianca battito zero cominciò a sudare eeeh eeeh nooo ma che cattivi quelli del Tevinter marcia sacra così nel dubbio bastardi quando vi fa comodo solo eh il creatore usa gli strumenti più strani pure un mago che tra l'altro proprio da parentesi pezzo di merda ci ha aggiunto ma sapete perché penso Anders? perché purtroppo me l'hanno spoilerato che Anders c'è in questo gioco me l'hanno spoilerato peròoo che hanno fatto un retcon mannaggia la madosca eh mi incazzo se hanno fatto un retcon perché io me lo ricordo esattamente con Malbeth hai fatto una bevata un affanculo ma hai dato una mano non l'ho fatto diventare custode grigio ed è poppato letteralmente ha fatto puff ed è andato via cioè io spero che sia Alistair che dà una mano che hanno fatto come gli pare anche se muore lo trovi ma perché? no ma infatti sai che se è morto Anders semplicemente mettici un custode grigio standard no? cioè metti un custode grigio mago standard perché è così diffidente? you see what our people face in Kirkwall they have no jobs no homes most can barely buy bread this healer he serves them without thought for coin he's closed their wounds delivered their children and yet he needs to hide perché è un mago lui ci serve che è un custode perché ci serve come scan nelle vie profonde no? we heard you in there asking about the healer we know what happens to mages in this town and it ain't gonna happen to him bethany look we're Ferelden just trying to keep out of the Templar's sight same as you Ferelden? but you you're closed ho capito in qualche anno me dovevo vestire che mi sono portato i panni dal Ferelden per un anno mi metto quelli che cazzo di oh porca puttana mi hanno dato un'altra secondaria vi ricordate le guardie finte? hanno light out da dover esterminare ho capito come sta andando questo gioco essenzialmente ragazzi e quando giriamo ogni volta che troviamo un nemico con un determinato nome dobbiamo continuare a chillarli a stecca perché a un certo punto ti fanno ecco questa è casa mia andate lì radete tutto al suolo con le ruspe tipo Salvini oscuro presagio so che devo ringraziare voi per la restituzione della lettera perduta dei custodi grigi a quella che avevamo dato la volta scorsa la vostra azione non sarà dimenticata scusa ma quindi è finita sta quest quindi io posso usarla alla pozione di Avernus non si sa mai noi salviamo è salvato pre-pozione ok io pensavo di doverglielo ridare l'indruio pensavo fosse qualcosa di lore però ho capito che Dragon Age 2 almeno per queste cose molto attive è molto più terra terra rispetto a Origin quindi ho capito ciao zia ma tu sei scema ma questo è stupro one on one ma zia ma scusa ma te da piccola che ti dicevano prendi le caramelle dagli sconosciuti se ci sta un furgone aperto facci dentro ti facevano tutto al contrario cioè vabbè che probabilmente essendo una sorella della chiesa mo per chi non sa le sorelle della chiesa hanno i cortelli dietro la schiena pronti per accoltellarvi sono tipo degli assassini cioè incredibili gente da mazzolare allora vediamo questa nuova intelligenza artificiale come se la cava allora fatemi usare un attimo lei se io tipo faccio questa cosa che è quella che abbiamo bloccato la volta scorsa lei a ogni persona che l'attacca gli fa danni figata resisti Aveline guarda pure il party Varick ha detto guarda puttana posso dire mannaggia d'andraste sta a dire ho sciottato tutto il party ho fatto un diventi su tutti tutti i vendinati che belle le build che escono fuori bene che belle cazzo nego io sono non a caso un distruttore bello non gliene frega un cazzo a Ruka Ruka dice guardate io sto per attaccare chi sta in mezzo sta in mezzo sono un cazzo di vostra venite al punto ok lui vuole portare fuori un mago kunari perché noi abbiamo letto di l'ornicodex che i maghi all'interno del popolo kunari vengono trattati ancora peggio di come vengono trattati da noi cioè hanno tutte le catene addosso la visiera vengono un sacco appesantiti proprio perché voi immaginatevi che il kunari comunque proprio fisicamente già è una bestia di satan voi immaginatevi letteralmente un kunari che sa usavurà la magia che cazzo di toro è come se Ruka domani fa biglasso mago brutalmente perché proteggerlo in segreto dove andrà ridotto così va bene t'ho notato un altro dettaglio c'ha la bocca cucita gli hanno cucito la bocca il diavolo è questo sembra un'armeria ambulante non mi insulta Gedojans da ascoltare quello furbo ti è incazzato Aveline inamovibile per favore grazie questa potrebbe essere una tattica è appena nata una tattica ragazzi Aveline con tutta la roba da tank me li attira tutti e posso boncarla la uso come incudine essenzialmente che bello è la prima volta che lo vediamo un armato magnifico ecco ne altri non so talvasciotti infatti perché hanno le pitture addosso questi sono proprio del K'un Meryl è temibile bello che parlano nella loro lingua che cazzo è una verga del potere del controllo dei maghi quindi Bas Serabas è tipo un mago straniero mago dell'altra parte va bene Meryl amicizia più 5 Meryl lei lei dice si andiamo si ammazza per dio ma Varric Varric ma ti fai i cazzi tuoi ma sono immuni pure al fuoco cioè scusi i gunari sono immuni al fulmine e al fuoco ma ho capito ma è confermato raga possono usa la magia dei demoni e sono immuni agli elementi sono degli umani che si sono mischiati con dei draghi perché se no non si spiega beh poi devi capirlo pure da sola che dovevi utilizzare quel pisello che cos'è Varric con un buco nel petto Meryl am unbound odd wrong but you deserve honor you are now past Varad worthy of following I thank your intent even if it was wrong I know the will of our Varad I must return as demanded it is the wisdom of the Kune vorresti accettare la morte so after all this now you want to die I do not want to die I want to live by the Kune which means dying yes is that hard to grasp e se si sbagliasse Arvarad couldn't kill me perhaps he was wrong about your death too losing to you who does not make him wrong he spoke the Kune I have chosen it is bread in the bone existing is not a choice it is the only choice as it Tal-Eb it is to be la vita è tua no? a come ti pare my job ended when we exited the city the rest is up to you you know of certainty and borders you are closer to the Qunari than you admit your role would change little if you accepted the Kune take this secret thing Basvarad remember this day Talismani di Sarebass uh ok so maghi del sangue Sarebass c'ha le corna tagliate lo fanno quando gli tagliano le corna quindi è tipo monito però quanto mi affascina il Qun quanto mi affascina e quanto anche al tempo stesso mi dà un fastidio che non avrei d'idea perché è molto molto bello ma è proprio qualcosa di molto che va contro la mia roba proprio il mio modo di essere ma vattene a fanculo tu brutta vacca della chiesa lo sapevi che cazzo stavamo facendo e chi avremmo trovato lo sapevi hai cercato di creare altro scompiglio per far partire la rivoluzione sei proprio stronza voi della chiesa siete proprio stronzi perché lo stanno cercando in tutti i modi un pretesto per scornare che sembra un gioco fatto con i cunari per scornare con i cunari perché i cunari come abbiamo detto molte volte sono a bomba d'oroggeria loro stanno là perché stanno là sono neutrali totali ma se gli viene detto caricate pulite questa zona convertitela loro lo fanno quindi stanno cercando tutti i modi un pretesto per far portare la gente a voler far botte con i cunari perché ovviamente se il capo dice andiamo subito a marcia è la responsabilità è la sua è infatti che mi aspettavo pure io dalla chiesa proprio stronza cazzo niente giochetti con me don't string me along you know that I know whether you believe it or not I wish you no harm that might have been useful for someone but still regrettable a massacre of citizens protecting a slave might have forced the chantry to doubt appeasement to see the cunari for the monsters they are perhaps finding the mage was a rushed opportunity dovrei ammazzarvi perché a ruga in questo momento perché ha vissuto solo per un anno non gliene frega un cazzo c'è i cunari si fanno i cazzi loro si ci sta della tensione ok ma ne frega un cazzo a lei gli importa che c'è stata lei in mezzo al puttanaio c'è quello che gli fa rudere le ovaglie quindi dovrei uccidervi la tua guardia la spezzo a meta e me la cago di nuovo vi siete fatta una nemica perché non mi hai dato la chance di scapocciarla qua Varric ha aumentato la rivalità perché Varric dice ci servono più appigli più collegamenti possibili quindi l'hai sprecato ma no anche a me mi giravano i coglioni perché se andava tutto nel peggiore dei casi eravamo noi che avevamo fatto delle robe brutta stronza va bene andiamo da Miran che è l'altra big quest e Anso ciao ho capito perché hanno messo queste varie modi per accettarlo perché lo sanno anche loro perché ci penso e io è tipo ok ti do una mano perché sei volentirioso spero ne valga la pena è un sì ma te dico vabbè lo faccio perché pesa i soldi aveline lo so che scorni però vedi perché la volta scorsa Varric mi ha dato il meno 5 gli ho detto guarda vediamo no meno 5 però quando l'ho accettato mi ha detto subito di sì allora ci stanno per saltare al collo tutti ok quindi qua dentro è pieno fatevi un attimo indietro voi adesso potete entrare andate un attimo a far culo no aveline ha detto agge da morì chi siete non siete templari a vedervi così cacciatore del tevinter scusa noi siamo andati a prendere delirium aveva fottuto delirium a dei signori del tevinter però madonna dei cacciatori del tevinter così una cutscene addirittura questa è una situazione non capirà nessuno ma sono tatuaggi delirium ah ok cioè perché lo stronzo in realtà non era perché c'era il lirium gli serviva qualcuno che gli distraesse i cacciatori del tevinter perché i cacciatori del tevinter stavano cacciando sto elfo qua madonna di cristo che cazzo di giro non è stato un problema che bello spadone sono mi sa tatuaggi di lirium perché è bianco se poi era uno schiavo del tevinter di un magister del tevinter hanno detto questo era tipo uno schiavo sotto al suo controllo e l'ha infuso con l'irium quindi è up ragà mo perché la cazzi le tecnologie non lo permettevano l'ha impallato con un pugno l'ha trapassato con un pugno sto cristo sei uno schiavo fuggito che domanda del cazzo perché affrontarli ora è tutto chiaro e l'arrivo 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 che es non Ormai Luca dice Vediamo dove cazzo Ammi strada vai Col culo Eh? Ma lo sapete qual è il fatto? È che se una persona gioca di roleplay Perché questo sicuramente è un membro del party Se uno qua gioca di roleplay E non gliene frega un cazzo di aiutare il nano Non incontrano mai Ferris Cioè se io mo non mi ero un attimo buttato Ho detto vabbè vediamo dove andare a parare Vostro figlio è un eretico Vostro figlio è un satanista per caso Non potete farcela da sola Siete una Dalish Siete un nano per caso Non saprei riconoscere Cos'è successo esattamente Pure questo indaga è stato un po' inutile Parlami degli incubi Magari la nostra cara Merrill sa qualcosa Vedete questi indaga Sono inutili Perché sta ridicendo la cosa che ci ha detto nella prima frase Cioè ci ha ridetto Ah fai gli incubi Mi sono rivolto al circolo Come ci ha detto nel primo dialogo Gli abbiamo chiesto Wake raccontami tutta la storia Ha 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 fatto le magie E non l'ho mandato al circolo Chio maledin Dov'è? Si se non si è già trasformato in un abominio Adesso arrivo è diventato un blob molliscio De fiamme Budella come minimo Però lo riporterò indietro Feirnir Vincento Andrò subito a cercarlo I will not leave you fearful for a moment longer than necessary You ought to have his own life Out from the shackles of the circle Everyone should My husband Wesley was a Templar They're not all fanatics to be feared Thank you It has been a lonely time hiding It's almost a relief to finally confront this openly Minchia Merrill e Bethany Sono proprio parti opposte eh Vabbè perché giustamente è il Fatalice Che ha vissuto nella libertà dei boschi Infilarsi dentro da una torre Non è che è propriamente il torpo Che tra l'altro anzi Lei è stata pure fortunata Perché ha chiesto a sto templare Che appunto non è una macchina da guerra Perché se era un templare normale Come quello della signorina de prima Da moca aveva caricato A spadate sulle gengive Da moca se l'hanno portato io Salve Vincento Allora Da quel che abbiamo capito Antiva Quelle zone là Dovrebbe essere tipo Spagna-Italia no? Ma perché l'hanno fatto Con il vocione sciad Così è capace No no Così è un po' più che babbaro L'hanno fatto col vocione basso Per questo si è innamorata la moglie Va bene Il nostro caro Vincento È stato utile Come un calcio nelle palle È servito solo a fare male Perché per il resto niente I would like to know more about being a guard Aveline I don't think that's the job for you Eh sì I know But it might help me not get caught You probably shouldn't have said that part Madonna che bellina Mi piace come Maryla È proprio pure È schietta Dicevo guarda Fammi un po' imparare come fate I turni dei guardia Così Posso sgattaiolare Armature Trask Bella come questa interazione È stata palesemente Come i cinesi No Molte persone guardano Tipo Eh beh Lo conoscerai Perché è cinese Ho fatto Non è che se conosciamo tutti Parlatemi di Feril Vorrei aiutarlo La guardia cittadina potrebbe aiutare Credo che questa interpelli La nostra Aveline Aveline Non ti pensi che questa cosa Concernia la tutta città Sì E teoi templari Sono spettati Per iniziare È vero Sbattamente Ci sono più magi Fleeve Che possiamo Sbattare Sbattare Allora Lasci il guardia Do what we're good at I can track Il boy C'è un templari Un former templari By the name of Samson L'ho lasciato L'ordere Due To Filosofical Differences È vero No da te È vero Visto che a te ti piace Tanto fare il caito Devole Ma non Se morirà Tu lo seguirai Lo sai Questo non mi piace Uccidilo Avessi potuto L'avrei fatto Vai Un cazzo Un cazzo di ladro Eccolo qua Mi hai mancato Godo Pezzo di merda Guarda cosa non manca Beh vabbè 500 danni Quel tot di vita Gli ho tolto Taci tua No È diventato Un abominio Porca puttana Impanicata Bello L'effetto Come l'hanno fatto Che si rannicchiano Per la paura E poi la magia Li fa esplodere Eh sì È un abominio Uh cadavere Perché ha rianimato I cadavere Perché giustamente È un abominio Bella 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 Sta cosa Giustamente Ha rievocato Tutti i morti Che abbiamo ucciso Dell'A Ah era la figlia Di Trask Povero Non glielo voglio Di che è morta La figlia Povera Crista Ah ecco Per quello vuole Perché è Der Tevinter Giustamente Consegnami Non hai capito Che io te sgozzo Sul posto Mi hai detto A questa troia Non so se hai capito Che io a te Il bastone da mago Te lo impianto In culo Signorino Non so Se L'ha ben intesa Questa cosa Che io La scoccio male Io la devasto Nel buco Del non si può dire Vedete Una volta che Entrate nell'ottica Che il gioco è così Pure tutte ste orde Diventano Molto fighe Da gestire Perché tu lo sai Che tanto non sarà Quello da lì Quindi ti tieni Un po' di risorse Per dopo E così via Ruka Ammozzicalo un po' Dagli un bacino Dagli Anzi no Strappagli le vene Del collo A sto stronzo Così ti impara A chiamarti troia Così dovete reagire Ragazzi Se qualcuno Per strada Gli fa Ah fantastica Voi vi girate Con la borsetta Gli tirate un cinquittone In faccia Easy peasy Risolto Smashagli Il cazzo di culo Troia del Ferelden Vuoi di questo Perdona Troppo 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 Fica Tutta sta gente Che è ucciso In sta live Non ho fatto ancora Un livello E la madonna Quanto è Nel primo capitolo 5.000 punti xp E dobbiamo cercare Minimo un arte 3-4 guarnigioni Più o meno Dei cunari Neanche di umani Oh ma che bello Ma a distanza ravvicinata Varric C'ha un'animazione Che fami lì Che ficata Raga questo mica È da poco eh Dai esci dallo scudo Penso di merda C'è la ruga Davanti allo scudo Toc toc Varric Pensaci tu Sei tu Quello carismatico Del gruppo Tell this dirtbag Who we are If I were you I wouldn't be threatening The Viscount's son What? Oh I suppose You just got a tip From a slaver That he was selling Mage flesh cheap You never thought To ask Where he got it You never wondered If you were buying The Viscount's Well known love child From his elven Mistress The boy he swore To protect Even if it meant Raising the entire Free marches I seek the war With the free marches Take the lad To his father Varric Grande scrittore di libri Frottolone Piano S'ha fatto Puttanagli Così Ma che gentile Oh That's quite a generous offer Guarda Guarda Che bella Che c'ha la pappagorgia Forse c'è un altro modo Mia sorella è una maga Pezzo di merda Di un elfo Sarei pure di città Ma l'hai ereditata Tutta la cosa Dei Dalish Tutta l'hai ereditata Sarà una vita difficile Anche perché sappiamo Che i Dalish Pure con i maghi Né che Comunque è bello Con i maghi Ovunque vadano Vadano Sembra pizza in faccia Per adesso Posto peggiore Nel Qun Perché tra l'altro Sono proprio pure loro Che dicono ok Ho fatto qualcosa di male Se danno fuoco Abbiamo visto Quindi Sarà una vita difficile Non Non la tua magica Ma credo Che ti prenderanno Se c'erano un altro modo Il circle Lo saperebbe Faccio che li tieni giusto E a tua madre no Povera grista Che hai fatto soffrire Oh eccolo Fenriel Figata Ciao Come vanno Gli incubi Come vanno gli incubi I felt like Everyone could tell By my face I was an elf Now I understand How easily I passed It's harder here Still We appreciate you Bringing him here friend We would not see A son of our tribe Suffer alone Please Accept this As our thanks Qua hanno fatto Qua hanno fatto una cosa Fighissima Si vede Ancora di più Che un mezzo elfo Io non ci avevo Fatto caso Alle orecchie Solo Leggermente A punta Che hanno finalmente Messo che sei un cazzo Di mezzo elfo Quindi molto probabilmente Lui ha preso Molto di più Dalla parte umana Quindi la sua magia Non è di natura elfica Ma è di natura umana Ergo sarà molto più collegata Ai demoni Iari iari da sé Che tanto davvero Non ci avevo fatto caso Questa non è un elfa Dell'enclave È un elfa delish Perché c'ha i tatuaggi In faccia Quelli se li fanno Proprio per differenziarsi Non ci avevo fatto Per niente caso Ecco perché dice Che è più delish Che altro Sto cercando Del legno ferro E cosa ha dissuoso I vostri cacciatori Perché come vi ho detto Molte volte Il sangue De pro l'oscura Cioè in generale I pro l'oscura Sono corruzione Quindi se loro Magari li uccidono Li fanno attaccare Succede un po' di puttanaio Rischiano magari di Corrodere tutta la zona Va bene Quindi pur i pro l'oscura Perché giustamente Come sappiamo Da Dragon Age Origins Dopo la fine del primo Si sono divisi in tribù Si sono sparsi Ma perché alla fine È come Un po' nel signore degli anelli Cioè Comunque continuano a girare Non è che Ammazzi il capoccia Spariscono Diventano polvere Oh belli Pro l'oscura Madonna Potevano fare un dettaglio Bello con il sangue Magari nero Piuttosto che rosso E vabbè Il genlock È fatto da damanti Oddio Uno shriek Oh che bello Aspetta Esteticame Guarda che adesso È più un elfo Ha tutte le Le orecchie lunghe Corrotte Guardali Così È un elfo Corrotto Cazzarola Bello Madonna Ma questa cosa Farà male Ad Avelin Domanda Vediamo Facciamo il test È la madonna Che era un missile Terraria Quel coso Farrick Si comunque Gli fa male Andiamo a vedere Se a casa Sono arrivate delle lettere Prima di finire Tutto l'inferno Casa di Gamlen In realtà questa sarebbe Casa nostra Visti gli ultimi risvolti Ma dettagli Come segno di buona fede Ho legato una modesta Somma a questa lettera Ci sono altre monete Che ti aspettano Se accetterai di aiutarmi Ti prego Vieni una pena A ricevere questo messaggio In caso contrario Metterai a ripenta Di molti innocenti Cordialmente un amico Fotti sti sordi 50 monete d'argento Vabbè che sarebbero 50 euro Cioè ricordiamolo È come in D&D Quando vabbè Ma sto 50 monete d'argento 50 euro Perdi No Diciamo che sospicci Ah è Trask Ok Templare Con la barbozza O si sta per ammazzare O ci vuole ammazzare Sono due Le varianti In gioco Di che si tratta Sì 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 Fidate che questi Si arrendono Mica ci stanno Per sparare 75 magie Come ci sono arrivati qui Cosa faranno i templari De Duco Vabbè infatti Non gliela chiediamo neanche Dicono questi arrivano Quali sterminano Ma sicuro Va bene Mi piace come Amelie neanche ha parlato Si è girato E ha sorriso Sì esatto Proprio Ha uno sguardo Di una cucciolona Ha detto brava Ruka Ok mi sei piaciuto Sto giro Non hai fatto la strozza Eh Li vedo come gli eredici Non hanno fatto cose brutte Come al solito Lo vedo Eh Sì 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 Assolutamente Mica li lasci Cazzo da soli un attimo E fanno puttanai Possi pure tu mago del sangue Però bene Parlami di Decimus Decimus is the leader of these mages He's crazy He said with our phylactories gone No one could find us We would be free I think maybe he set the fire There must be a demon working through him No normal man would profane the death like this Oh Se me fate usci un altro demone dell'orgoglio Mi incazzo Perché siamo all'atto 1 Oh che non è un cazzo di nessuno Se ammazza un demone dell'orgoglio Mi incazzo Posso aiutarti Fidiamoci È un mago del sangue Che cazzo d'aspetto E sia mai che poi appena un mago Gli dai un po' di potere Non gli pia subito Schiribizzo De devasta il mondo Mai 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 Gli succede Lungi da loro Ogni volta che gli dai uno sbriciolo di potere Questi diventano veramente l'anticristo Tacci loro Oh che bella The Templars have come to take us back to the circle Decimus no Stay your hand These are no Templars What do I care what shield they carry Stavo usando gli altri maghi come sacca di sangue Bene magia del sangue la scuola proibita Varick è stato quasi shottato da che cosa Perché ha usato su Ruka qualcosa che assorbe il sangue Pezzo di merda Stai a cuccia cancro Guarda che cazzo ha fatto Minchia su sto gioco l'hanno resa OP eh Va decimus Pigliatela in culo Ficchi puttana Too much You killed him Oh decimus You should have listened to me Love You You are one of us But you wear no mark of the circle How is it you side against your own Do you not see the pointy ears and tattoos I'm delish You are not my own Decimus gave us the courage to face the Templars Without him We would be prisoners still Eh Meryl ce l'hai anche tu però un po' di Io capisco che l'ha detto per dirgli No cioè io non sono un mago del circolo Sono una maga delish Cioè non siamo stesso tipo di mago Per dire Però ho sentito un po' Era un mago del sangue The minute he resorted to blood magic He signed his execution warrant I warned him I told him once he marked himself as a blood mage That was all anyone would see She won't admit it But it's obvious She's just as corrupted I swear to you I have had no truck with demons Please We only want our freedom Without your help The Templars will execute us all For Decimus's crimes Sì zia ma tu lo capisci che il discorso che hai fatto veramente io ti dovrei dare un sacco di carezze con la lama in faccia Eh quando avresti usato la magia del sangue tutti ti avrebbero visto solo per quello Dio può Perdi incibacco Sono entrato qua dentro ho affrontato 74.000 cadaveri Non mi ha dato il tempo neanche di parlargli Mi ha attaccato Oh ma che si rincoglionita Ma dovresti essere anche un attimo intelligente essendo un mago Oh dove vorresti andare E come dovrei aiutarvi Sperando che non gli stia dicendo di sì No Qua è il sito del solito discorso Il Templari haizzano da entrambi le parti Ok Però il compito del Templari è quello E neanche dire che voi non l'avete fatto Voi l'avete fatto E probabilmente Pure tu sei mezzi immischiata Quindi no col cazzo che vi aiuto Mary rivalirà più 25 Mary è inutile che me guardi così Amore di mamma Eh oh Io capisco che tu sei una maga del sangue Ma tu hai una consapevolezza del tuo potere Che è diversa da loro C'è proprio una concezione differente Perché questi ricordiamo hanno dato fuoco in circolo eh Dare fuoco in circolo Oddio sapete quante persone dentro a quel cacchio di posto saranno morte Ma perché per Meryl i maghi dovrebbero essere liberi Cioè per Meryl sta cosa dove sta dentro i circoli Chiare chiare da sé Non sa da fatto Cioè lei vorrebbe renderli liberi Però lei ha la concezione del mago dei Delish Non ha la concezione del mago umano che è un figlio di puttana Perché ogni volta che un mago utilizza sto potere Perché pure Meryl lo usa Pure Morrigan lo usava Ma non andavano a fare quei puttanai Per adesso da quel che so Fino ad adesso tutti i maghi del sangue Che abbiamo visto che hanno avuto un attimo di potere Venivano proprio risucchiati Ma perché giustamente vanno a stretto contatto con i demoni C'era un puttanaio Perché questa è tutta opera delle magie del sangue Perché come abbiamo letto Squarcia il velo a spack Squarciando il velo a spack Sapete quanti spiriti, demoni e cazzi e mazzi Passano da qua che si infilano dentro ai cadaveri Dentro agli oggetti Prendono forma se sono più potenti Cioè se mi continuano a mostrare sta faccia dei maghi del sangue Raga mi dispiace ma Se la prenderanno per in culo Se avessi pure potuto un attimo Convincerli, parlargli Fargli dei tiri su persuasione No 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 Tu entri, t'attacca Fotto va bene Poi te fanno pure Ammazza il templare Peccato che non ci stava la linea di dialogo Con cui gli potevi di zia Questo verrà cerca di parare il culo Se non fosse per lui Voi eravate già stati sterminati tutti Anzi sta arrivando lo sterminio I maghi si sono arresi Cerchiamo di calmarci Siete liberi È morto Varric Che cazzo ha shottato Varric Ogni tanto c'è roba che shotta Mi sa Ah ma perché è vero che come tutti i boss Ci avrà quella mossa di merda Ci avrà sicuro quella mossa di merda ragazzi Raga ma i danni Ma i danni Che cazzo di cancro Ma perché continuano a spawnare Templari o P.A.S.F.A.C. Ovunque Lo sapete pure perché sono duri come la Madonna Perché sto stronzo al centro Costantemente Li cura Li cura costantemente Quindi se non ci avete abbastanza damage output Ci rifullano Cosa farete ora Tarsk O Trask Non ci avete aiutato Tu non aiutti i vostri Templari Cosa significa che ti stai lasciando la ordine Mi ha fatto Credo che il mio parte Mi ha scoperto Mi ha scoperto I'll dire gli altri Templari Tu hai morto Caras E che mi fuori I'll dare un'altra Trazione A seguire Da noi dovremmo anche seccare la caserma Abbiamo trovato appunto il rifugio delle finte guardie La caserma, tra l'altro la caserma Perché è fake Capitano Quert Ma capito, ma basta Ma quanta merda di gente ci deve stare in sto posto Questa è la cosa dell'incubo che a me me dà il cazzo Sto arciere si è preso 580 danni Come se non fosse successo niente Vai, va, Rick Devasta, lo bravo Presa invernale sullo stronzo Scusa, ma dai Ma un umano, una guardia del merda che è immune al ghiaccio Il bro viene dalle Alpi È nordico, eh Il bro è un figlio di puttana probabilmente Le retrovie sono mie E vabbè Questa finta guardie è calcolata come un boss Però vedete quanto posso utilizzare più velocemente l'abilità Che questa è una roba Che sembra una cazzata Ma che non ti dà semplicemente che tu ti metti come uno stronzo a fare Gna 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 Per due ore Finite sto stronzo Cristo iddio È morto, ok Uno ce lo siamo fatto C'è il boss ce lo siamo fatto Avelin Te sta parivà Una palla di fuoco addosso Facciamo un taste test Vediamo se sopravvive Avelin Io ti limono Madonna un muro questa donna No gliene è sbattuto un ciolo Un ciolo Ha detto ma se De più Voi dovete sapere che noi da inizio fight Stiamo con Inamovibile Per chi non sapesse Inamovibile Ogni pizza che si prende Avelin Gli riduce la velocità d'attacco Il danno che infligge Ma diventa più tankerina Cioè riduce i danni che prende Questa è stata un'ora a fare pizza con tutti Quindi è diventata un muro Sì ha detto ok Sono pronta per la prossima palla di fuoco Altra palla di fuoco Avelin A meno che non l'ho missata Prova No no raga È proprio dura È dura Ma quindi se faccio una tempesta di fuoco Si sopravvivrà una tempesta di fuoco C'ho sto vago presentimento di no Però non si sa mai raga Ruka fatti i cazzi tuoi No no Un mostro Avelin Ebbè giustamente lei è il tank Ma infatti scusa Avelin Ma tu hai qualche resistenza Particolare Ah no è vero Perché è un power up Che ho preso con le varie cose Che scudo arcano Aumenta la resistenza al fuoco Al freddo La difesa generale Ma se voi prendete Una passiva Quella cosa non va soltanto a voi Ma va a tutto il gruppo Quindi Avelin Tra i suoi buff I buff che gli ha dato Bethany È diventata praticamente Immune agli elementi Avelin è veramente Il cuore del gruppo Cioè sono uno di quei personaggi Che all'inizio dà veramente Tanto una mano Perché si può tancare L'ira di Dio È fortissima C'ha un fiotto di vita Se poi c'hai anche Che ne so Un healer come Bethany È incredibile Questo per chi non se lo ricordasse Era l'elfo Che abbiamo incontrato La volta scorsa Che è praticamente Che è uno schiavo Del Tevinter elfo Di un magister Quindi di un mago Dei contro coglioni Che tra l'altro è stato infuso Con il lirium Cioè questo ha trapassato Con un pugno da parte a parte Dobbiamo stare attenti Ah cioè proprio bella Se magari stai zitto Che dovremmo essere furtivi Mortacci tuoi Oh giustamente Mago del Tevinter Attorno a me Toglietevi un attimo dal cazzo Che Ruka deve fare una cosa L'ho shottati tutti Gutsu Pezzi di merda Minchia quante ombre Quanti demoni Hai evocato Madonna È bello vedere Train fighter Che Smazzuolano Portiamoli a casa nostra A giocare Quanti Eh ho la madonna Ah che cazzo sto vedendo Ma quanti demoni Ce devono sta Ma già che non è sponato Un demone dell'orgoglio Dentro a sto posto Ma ve pare normale Ma ve pare normale Ma andatevene a fanculo Ferris scusa ma Cioè ho dovuto seccare tutti quanti Sono morti tipo tutti Quanto pare Jorak Siamo davanti al creatore Non me ne sono accorto Ma poi fatti di merda Finito Madonna ma qua hanno Hanno esagerato eh Greve Ma neanche nell'oblio Oh che cazzo è spawnato fuori Allora tenete lì per un attimo Lì Voi due dovete togliervi dal cazzo Vabbè Ma c'è dai Hanno detto proprio Sbatte cazzo con La lore Brutalme Perché questo di lore Raga Significa che qui c'è uno squarcio Nel velo Grosso Come una madonna Cioè qui Kirkwall È finita Se ci sta sto squarcio Qua così È finita Kirkwall Neanche nei gambi di battaglia Ci stanno tutti sti demoni Aveline Un'ultima resistenza Devi fare I niti O deve uscire un cazzo di arcidemone Perché adesso mi aspetto L'arcidemone Se dobbiamo continuare così Uh un orrore arcano Devo sfogarmi Contro sto stronzo Velocità d'attacco Tu melano normalmente Dobbiamo distruggerlo L'orrore arcano Ok adesso toglietevi dal cazzo Perché arriva Bethany Che è la nostra bellissima maga Leppa Poi una palla di fuoco tattica Questa è tattica vera ragazzi Ruka Carica in mezzo Ricarica di nuovo Continua il puttanaio E finiamo l'orrore Madonna Bonnie Bonnie Is this true tactics Morsa di ghiaccio Tu ti devi spostare dietro Ruka Smashagli il culo Smashagli il culo doppio Ho preso Ferris Ma va bene Si recupera Si recupera Si recupera Poi carica verso di là Ferris Carica su questo Bravissimo Minchia Ruka Che pizza che t'hanno tirato Fortissima Mi sa che stai per morire Se non ti alzi E invece mangio Aveline Ti bonco un po' eh Ma sapete che forse Mi ci trovo meglio A giocare Facendogli mantenere la posizione Perché giustamente so Che se lo metto da una parte Rimane lì Altri? Altri demoni del cazzo? Capuccio del signore degli schiavi Come faccio a metterlo a una persona Questo oggetto Senza che diventa Un mostro Viper ends I escaped a land of dark magic Only to have it hunt me at every turn It is a plague burned into my flesh and my soul And now I find myself in the company of even more mages You can speak to me directly I saw you casting spells inside I should have realized sooner what you really were You harbor a viper in your midst It will turn on you and strike when you least expect That is in its nature Eh beh giustamente lui è spaventato dai mages Tuttavia un mago ti ha aiutato I don't remember you objecting too strenuously while we were fighting I'm not blind I know magic has its uses And there are undoubtedly mages with good intentions But even the best intentioned mage can fall prey to temptation And then their power is a curse to inflict upon others No one stopping you from moving on you know I imagine I appear ungrateful If so I apologize For nothing could be further from the truth I did not find Daenerys But I still owe you a debt Here is all the coin I have As Anso promised Should you find yourself in need of assistance I would gladly render it Parlami de Daenerys You said Daenerys is a magister But little else In Tevinter The magisters hold all the power Over the chantry Over the imperial court Over life itself It is nothing for one to own a slave Daenerys had many But none he valued so much as me Eh perché molto probabilmente è un esperimento L'ha infuso con l'irium È potente È... Però sei fuggito Then how did you get away Is it not enough that I did I carved my path to freedom in blood I left that life behind Yet his bounty hunters follow me No matter where I go I will run no longer Potresti tornarmi utile I'm planning an expedition I might need help with Fair enough Should you ever have need of me I will be here If Daenerys wishes his mansion back He is free to return and claim it Beyond that I am at your disposal Ok lui si metterà praticamente piazzato là dentro Se male gli viene di voler tornare nella casa vacanze Lo mazzuola Di legnate Però la cosa che a me mi preoccupa È che col fatto che noi stiamo giocando a questa difficoltà Alcuni membri del party Sono necessari Per adesso almeno Cioè Aveline Con il suo muro Un healer O un mago Sono necessari Quindi È la cosa anche un po' che succedeva In origine Ma come quasi ogni gdr Cioè se io sono il ladro del party Perché dovrei magari prendere un altro ladro Se io sono il mago Perché dovrei prendere altri due maghi È quella roba che purtroppo ti porta A mettere un po' da parte Determinati pg Ed è un peccato Allora Anders mi farà incazzare Anders mi farà incazzare Perché io me lo ricordo Che a lui proprio gli ho detto Fottiti Cioè non è che gli ho detto Fottiti Gli ho fatto guarda Ci ha parato il culo Siamo pari Date Quindi che lui sia diventato Un custode grigio Dice Vabbè Poi ha risentito la chiamata No Ha sentito che era il suo compito L'ha fatto Va bene Sei impossessato E è entrato dentro uno spirito Sono solo qui per delle informazioni I want to know about the deep roads Did the warden send you to bring me back I'm not going Those bastards made me get rid of my cat Of course a pounce a lot He hated the deep roads Serpelo sotto Vedete che ci ho preso in Origins Il gatto Era da dare ad Anders Con il collare col campanellino Col cibo Serpelo sotto È possibile lasciare i custodi Vorrei il tuo aiuto Di che favore si tratta? Involvendo a bambini o animali I have a warden map of the depths in this area But there's a price I came to Kirkwall to aid a friend A mage A prisoner in the wretched gallows The Templars learned of my plans to free him Help me bring him safely past them And you shall have your map Mostra mi prima le mappe I will not make this deal sight unseen It's all right here But you don't see one page until Carl is free It's just as his cause is It scares me I don't want to give the Templars another reason to hunt us These are my terms If you want my aid with your expedition Meet me in the Chantry tonight I have sent word to Carl to be there Make a willing We will all leave free men Ah la quest si chiama calma Mi sa che il suo amico è stato Lobotomizzato magicamente Perché non lo sapessi in Dragon Age Esiste una cosa chiamata il rituale della calma Che ti priva di tutte le emozioni Perché come abbiamo visto più e più volte Il mago La magia Funziona molto con le emozioni Perché i demoni del desiderio Dell'orgoglio Dell'ira Quindi che cosa fanno loro? Zac 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 Tagliano il tuo collegamento con l'oblio E con tutte le tue emozioni Quindi diventi piatto Essenzialmente Diventi La macchina perfetta da lavoro Il tuo amico Ormai è andato Anders Però peccato Che quindi questa devo farla per forza Cioè io non posso Mandarla a fare in culo Cioè io devo farmela per forza questa Perché è trama principale Se no non posso fare E andiamo raga Tocca farla per forza Tocca farla per forza Noi la facciamo Non mi porterò I maghi Saranno un grande debuff Sì ma io non vado In mezzo alla chiesa A salvare un mago Con altri maghi Perché se ci stanno i templari Mese in culana la sorella Cioè siete detto Proprio brutalmente no Per essere molto molto onesti Perché tanto io ve l'ho detto La sorella di Oak C'ha una red flag in fronte Grossa come la madonnina Dell'ingoronata Ci renderà molto più deboli Non portarci un mago Però io di roleplay Non ce li posso portare Raga Perché questi Questi muoiono Se li porto là Quindi ci porteremo Aveline Varric E Ferris Poi magari appunto Questo non c'ha lo stesso roleplay Di Origins Quindi non gliene sbatteciolo Magari Ma non sapendo Né leggere Né scrivere E andiamo Devo vinirci per forza Madonna se tu mi sei Proprio di Terrorista magico Perché ricordiamolo Che nell'originale Lui era un mago del sangue Carl Siamo arrivati Dove stai? Così dentro la chiesa Che se ne vediamo Anders Anders I know you too well I knew you would never give up What's wrong? Why are you talking like I was too rebellious? Like you The Templars knew I had to be Made an example of No No How else will mages Ever master themselves You'll understand Anders As soon as the Templars teach you To control yourself This is the apostate No You will never take another Mage as you took him Cazzo sai C'hai uno spirito della vendetta dentro No della giustizia forse Ragazzi ma avete capito Che cazzo di cosa greve Che hanno fatto Hanno reworkato Gli adepti della calma Adesso li marchiano Gli mettono in fronte Il simbolo della chiesa Cioè gli fanno il rituale Gli mettono questo simbolo qua Fatto con Tipo marchio in testa Ma ho capito Ma no Perché appunto È stato lobotomizzato Questo tizio eh Cioè è proprio piatto Non prova più emozioni Ma magari fosse tipo Franco bolloso Gli mettono tipo Il bollino banana cichita Glielo fanno proprio Con il marchio Tipo delle mucche In chiesa è greve Come roba raga Merde Ferris mi dispiace Ferris si è preso Un pizzone Era venuto a darmi una mano Povera stella Ti ha rifatto il collegamento Con l'oblio Raga questo era Lobotomizza Infatti stava di Perché sta a parlare Come se provasse emozioni Anders è riuscito A ricollegarti All'oblio Esatto Ma non dovrebbe star Non dovrebbe provare Nessuna emozione Ma sei un adepto Della calma Ah l'ha ricollegato Perché probabilmente Dentro ad Anders C'è sicuramente Uno spirito Di qualche cosa Abbiamo capito E per un breve momento È riuscito a ricollegarlo All'oblio E quindi per un po' Lui sta riprendendo Se stesso E ci ha appena detto Paraticamente il Non volevo farlo Ma hanno costretto Uccidimi Perché sennò Tra breve Ritornerò Come prima Non c'è altro modo E faccio che ti chiedere E faccio che ti chiedere Inchia qua bravi eh Bravi Stata figa come cosa Il lui che Perché mi guardi così Che li switcha totalmente Figo Tu non hai giustizia dentro Perché se tu hai giustizia dentro Io mi devo incazzare Cioè se tu Hai per forza giustizia dentro Se hai detto che hai trovato Uno spirito della giustizia È giustizia Chi cazzo può essere Vabbè qua non gliene è sbattuto Un ciolo Ho capito Hanno preso delle cose Nella nostra roba È andata canonicamente Come cazzo vogliono a loro Perché per fare un recap In Origins C'era appunto Eravamo andati nell'oblio Puttanai Avevamo incontrato Uno spirito della giustizia Che era stato poi Quando siamo tornati indietro Portato con noi Si era infilato in un cadavere Di un vecchio custode grigio Ci abbiamo combattuto Alla fine del DLC Essenzialmente è morto Ha adempito al suo compito Ed era sparito Era tornato nell'oblio Qua hanno fatto Che non solo Io non ho fatto diventare Custode grigio Anders Ma tra l'altro È diventato custode grigio In se sa come Ha fatto amicizia Con giustizia Esatto Ma sì perché Loro starli Differenziano in spiriti E demoni Per dire Emozioni buone Emozioni negative Ma come ci ha detto Anche Meryl Giustamente Sono tutti spiriti Sono spiriti In generale Poi ci stanno Gli spiriti cattivi Gli spiriti buoni Stai dicendo davvero Quello che penso E fammi capire Cioè questi questi Te li mettono proprio da giocatore Allora Hai fatto come cazzo ti pare No Cambiato in cosa So he's a demon now No He is a spirit Whose only purpose Is to see the innocent saved And the guilty punished Of course No harm ever comes From good attentions Even when magic is involved Normally I would argue that I wanted to do well By justice I really did But my anger When I see Templars now Things that have always Outraged me But I could never do Anything about He comes out And he is no longer My friend justice He is a force of vengeance And he has no grasp of mercy E tra l'altro giustizia Ecco la G maiuscola Perché quello spirito Appunto è uno spirito Della giustizia Non c'ha un nome Quindi lo chiama giustizia Però potrebbe aver creato Un nuovo tipo di spirito Perché lui ha unito L'ira Alla giustizia E ha creato la vendetta Che figata questa Figa Non ci flerto No Con Anders no Perché lo voglio pigliare a pizze Questa non me l'aspettavo Ah c'è proprio così Anders join the party Ma chi cazzo dà ha chiesto Però effettivamente ha creato Uno spirito della vendetta Fai avresti dovuto immaginarlo Spirits aren't meant to inhabit human bodies That's what demons do The Templars have everything For a thousand years They've had the knights The lyrium The bloody maker on their side If you're born with magic They hear about it They search your little rat spit village And find you They tell your parents They'll be thrown in prison If they ever ask about you Stripped of their rights In the eyes of the maker And if you run away They hunt you down Again And again And again Allora bro Le contiamo Alla quinta volta Che tu mi fai questa cosa in faccia Ruga parte Alla quinta volta Ruga comincia a trattarti male Siamo a una Non calcoliamo quella prima Siamo Ne mancano quattro Io te lo dico Comunque È orribile You're speaking from personal experience Andraste's words Were that magic Must not rule over man It is not ruling To simply wish For the same rights As any man For a thousand years We've bowed to them But someday That will change Va bene Ma vatten a fanculo Anders Questo PG Non dovrebbe neanche esistere Ragazzi Diciamo che Anders È molto estremista Se il nostro caro Templare Trask Era proprio al contrario C'era molto più Bonaccione Lui invece è proprio estremista Col cazzo che abbiamo finito le quest Ne sono spawnate altre Porca madre Il primo sacrificio Che cazzo vuol dire il primo sacrificio Pagatemi invece You should pay someone else Like me I like being paid If you can't find Ninette I will gladly pay you That foolish woman Has caused me nothing But embarrassment She needs to be dragged home The guards disagree They are more disagreeable Than my wife Maybe your friend Is more sensible Her family Is getting suspicious They think I might have Done something to her Even if Well I just want to make sure They know I didn't do it Questo mi sa Che è tipo Urlet De quelle zone là Però è proprio Maschilista 101 Ma anzi Proprio Direttamente dal Medioevo È in pericolo E quando l'avete vista L'ultima volta Ma io L'aiuterò Non tanto Perché voglio Riportargliela Perché Cioè Se questa è sparita Da un mese Dio Madonna Dove cazzo È andata a finire Vi aiuterò Ma c'è scritto Il primo sacrificio Raga Questa è stata Fatta a pezzi È Jack lo squartatore Questo è Jack lo squartatore Ma per forza Eh vai Spawnano queste Come veramente I funghi Maccia Che gli è successo Cercate di collaborare Cioè Io ti ho chiesto Che cazzo è successo E non mi hai detto Che è sparito Che volete dire E come posso aiutarvi Diciamo che pure La comandante Meredith Me puzza parecchio Ma sta guerra Tra maghi e templari Sarà greve Sarà greve Fanno esplode Kirch Col giudice Vanard E Che cazzo Che crimine ha commesso quest'uomo? Sembra troppo facile. Esatto, perché non lasciate che venga mangiato? Va bene, va bene, cacacazzi. Devo cacciare fuori il mio dito magico? No? Comunque io queste quest, anche se sono magari un po' disallineate dall'allineamento di Ruka, le sto prendendo. Perché appunto abbiamo scoperto che molte volte tocca forzarsi, tocca ficcarsi nelle quest a forza. Perché poi, poi, mid quest ci stanno delle scelte che vi fanno fare per andare da una parte o dall'altra. Quindi quando vedete che faccio così è principalmente per quello. Sono curioso di vedere che cosa sono queste creature, sinceramente. Sono curioso perché se non l'hanno mai viste, però mi sembra strano che non hanno mai visto dei Prolo Oscura. Cioè vuol dire che sei nel nulla. Hai vissuto nel niente nell'ultimo anno. Cosa volete dire? E com'è possibile che nessuno lo note? Che mi dite voi altri? Ok, è un tizio che gli fa comodo. Per questo non vuole lasciarla morire là dentro, gli eserve, lo vuole riportare alla giustizia. Perché è una persona che gli fa comodo avere che magari fa delle cose che noi non sappiamo. Va bene, vi aiuterò. Provateci. Tra l'altro, Aveline ha detto quello che ho detto io solo se viene riportato, eh. Era un po' una minaccia pelata perché dice io ve sgozzo, chi glielo dice? Non si sa e non si può sapere. Eh, brava Aveline. Qua tra l'altro è stata con noi perché Aveline è molto sulla giustizia però anche brutalina, eh. Ho capito, questo è un tegnanico. È una tomba nanica. Ma che bella! Raga, ma è veramente un tegnanico. Dio madonna. Io ho capito che voi non avevate tempo. Ma non mettete una tomba nanica come dungeon. Io questa cosa come devo prenderla? Che vicino Kirkwall c'è un accesso alle vie profonde che porta a una tomba nanica. Perché non è un teg, perché i teg sono le città. È ok, sono tipo gli insediamenti. Questa è una tomba. Io come devo prenderla sta roba di lore? Oh, Dio è pieno di ragnatele. Come dico sempre, Star, mi potete mettere davanti anche un cazzo di leone. Un leone. Se io vedo un ragno, non ce la faccio. No, i ragni è proprio qualcosa che fin da piccolo... Ah, un ragno piccolo così che se ti morde muori di cancrena. Ti viene il pipporitto, per sette ore muori. E non sto scherzando, esiste un ragno che ti fa una roba del genere. Aveline, quanto sei dura contro l'elemento? Aveline è the wall. Aveline è la cazzo di Avel la roccia. Non la tiri giù. Si è presa una palla di fuoco, neanche si è abbassata la vita, raga. Eccola. Si è presa dieci danni. Boh. Cosa cazzo è successo? È sponato qualcosa? Varric! Porca puttana! Hai shottato il party! Nano bastardo! Nano del cazzo! Fugotto! Non si può fugottare. È morti. Invece sì! Scappa, Varric! Corri! Nano bastardo! Oh, eccola. E dove si trova questo Kelder? Tell me where he is. He let me go when I tried to get out, but then those things, they started coming out of the walls. I thought I heard him calling for me. There are demons. They make him do these horrible things. E cazzi suoi? Che scusa interessante. Well, I'll have to remember to use that. A demon made me do it. There are a lot of cruel people out there, princess. Completely demon free. E' un figlio di puttana. Hai visto che ci ha voluto a fare? E' malato. E' un serial killer di Elfie. Mi piace come proprio Rook ha fatto... Miei, che sta proprio rincogliendo. Ha fatto proprio un face palm. Fortissimo! Quell'uomo deve morire. Me ne frega a cazzo. I'm sorry, Lea. It's too dangerous to let Kelder live. But it's not his fault. It's not! Ma te ne vai a cagare? Oh, Dio madonna. Questa è proprio vittima di Stoccolma? Che tu entri in risonanza col tuo rapitore. Che cazzo vuol dire? Mi ha menata, mi ha fatto le cose, mi ha maltrattata. Però poi si è fermato. Ma che te ci fumata, zia? Ma che stiamo a fare veramente? Violenza domestica 101. Oh, porca puttana. Rooka, stiamo per morire. Ma moriremo con onore. Questa è una missione di suicida, Rooka. Ok, capo. Andiamo con la bandana. Va bene. Tu ti tanki tutta sta roba da sola. Deve caricare perché sta troppo lontano. Vabbè, ho capito. Sto qua giù, mica sto in Congo. Madonna. Guarda che, beh, immagino questi che adesso girano l'angolo. C'è una schiera di morti. Tutto a posto, gente. Ci ho pensato io. Salve. È il figlio del giudice che è un mago che non è stato consegnato? Non sei proprio ciò che mi aspettavo. Sta semplicemente proteggendo la sua posizione. Non mi ne frega un cazzo del figlio. Lui vuole semplicemente che non si sappia. Io lo sai più che altro sinceramente qual è la cosa. Me ne frega un cazzo. Io non sono qui per discutere il magistrato. Vabbè, ma è semplicemente schizzato. Dice non ha diritto di essere così bella. È stato impossessato da un Wryth. Da un demone dell'accidia, probabilmente. Cioè, o quello è matto in culo. Dubito che il circolo abbia mentito. Però è vero, li percepiscono. Raga, non possiamo lasciarlo. Questo ogni tanto Schiribiz ammazza elfi a random. Già stanno a pezzi al culo. Che appena si vedono si lanciano i frecce e bombe a mano. Ci manca veramente pure di c'è stato stronzo in giro. Viene da tutto con la tua morte. Cioè, è percaita molto in stile Ruka. Cioè, mancava che lo caricava con lo spadone. Oh, me l'avevamo fatto. Non dovrete più preoccuparvi. Non dovrebbe più preoccuparvi. Vai a fanculo. Non parlare. Che ti prenda ceffoni. In questo momento Ruka comunque sta cominciando a dare ragione all'Arishock. Più noi andiamo, vediamo, spizziamo e così via. E più veramente Kirkwall, ovunque, è corruzione. Più totale. Non ne abbiamo incontrato uno sano. Una persona. Che non sia un poveraccio. Cioè, dico, tutte le persone che hanno un minimo di potere, sono dei figli di puttana. Per il creatore come è grosso. Sì, probabilmente, porca puttana enorme. Per i primi secoli. Che cosa fanno, queste cose? Non so nessuno di nessuno che ne ha mai visto uno. Sei fortunato solo di stare qui. Inoltre, Hawk, ho pensato che le cose non saranno strani con te qui. Non che ho aspettato che le potele profonde siano sbagliati. Ehm. Il costante ruolo di DOOM tende a mantenere te awake. Vorrei conoscerti meglio. If we'll be working together, I should find out more about you. You're in luck. I'm always willing to talk about myself to beautiful women. My family came from Ozemar. Noble House Tetris. Until my father got caught fixing provings. He and our whole house got exiled. No huge loss. I was born up here. Sunshine suits me just fine. Ok, ce l'avevamo preso. Era un nobile della casta dei mercanti. E per salire al potere probabilmente hanno messo qualche cosa qua e là e se li sono inchiappettati a forza. Di che cosa ti occupi? Sei un mercantino? Un mercantino? Sono un figlio più jove. È una professiona difficile e pericolosa. Molto di noi muovono di sbagliamento. Fortunatamente, essere un figlio più jove di Bartram mi mantiene sui piedi. L'amore sa che non ha bisogno di subtilità. Sono l'amore che prende stringi per mantenere il coterie out of our hair. Prendeci solo un whisker ahead of the other families. Però mi intriga un sacco Varric come personaggio. È molto molto carino. Sembra il solito nano cazzone, no? Però c'ha un sacco di sfaccettature che sto adorando perché è interessato alla magia, all'irium, ha capito quello che deve fare visto che nella propria famiglia ci stanno dei problemi e cerca di risolverli. Mi sta veramente intrigando lui perché non è piatto, non è bidimensionale. ha proprio dei valori che una volta che tu li capisci te li puoi gestire. Sì, è un po' ciccio, però è un nano quindi deve avere il capuccione più largo che alto. Stai cercando emozioni forti? Ma no. Questo stringe molto l'occhiolino a D&D. Questa è un'avventura, no? Vabbè, ok, era letteralmente vai a chiacchierare con il tuo best friend essenzialmente. Anche perché immagino che alla fine di Dragon Age se tu sei tutto sull'amicizia o tutto sullo scornare Varick magari ci vedrà o come il migliore amico o come il migliore rivale. Cioè non per forza una cosa negativa perché ricordiamo qua questa roba non è odio e affetto, amore e odio. È amico o rivale che è ben diverso. Dobbiamo andare al primo sacrificio perché io ho paura che ci sia un cazzo di Jack lo squartatore in giro che tipo ammazza le persone e fa cose brutte. Sì zio ma a te che cazzo hanno fatto che Valette? Hanno messo saturazione al massimo c'ha gli occhi che so due zaffiri i capelli che so carota Ninette potrebbe essere nei guai? sapete qualcos'altro? Do you have any idea where she might be? Well there was someone else looking for a Ninette a Templar I believe his name was Emmerich he wouldn't sleep with me either I can't see why a Templar would be interested in anyone who isn't a mage Però Bioware in grazia di Dio tu non mi puoi fa veramente il 70% degli elfi maschi omosessuali ma non perché c'è qualcosa di male con l'omosessualità eh lungi da me ma è proprio macchietta no? L'elfo che tu arrivi di fa aah tesoro che cosa vogliamo fare con tutto che ti fasse c'è io ho capito che era 2011 quanto cazzo era il 2009 boh però porca puttana era l'amante di Ninette? C'è ancora qualcosa? Faffanculo Scusa ma c'è sopra un punto raga si è buggato o perché la quest è farsi l'elfo? Domanda onesta beh perché cioè non è che c'è stavano altri di aah cioè ok o no e quindi vabbè eviterò questa XP mmm nella città oscura questa la troviamo fatta a pezzi neanche il sushi diventata sashimi di donna è diventato ok va bene uh un demone del desiderio aspetta 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 stia ferma si facci vedere remeccata no è uguale è uguale sempre con le popponze di fuori è più texturizzata ragazzi cioè è uguale sì lasciate perdere le boobies volevo vedere se l'avevano cambiata c'è un ombra 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 ma scusa ma poi un demone un demone dell'ira ah non abominio queste cose però di lore mi fanno incazzare cioè raga se io devo prendere sta roba di lore di dragon age ma kirkwall è fottuta oh kirkwall è fottuta addio madonna non possono starci tutti sti demoni a cazzo per kirkwall vuol dire che ci sono squarci nel cazzo di velo ovunque vuol dire che qua è una bomba dobbiamo distruggerla kirkwall una bomba atomica chiamatela chiesa una volta tanto cioè magari poi tra qualche capitolo succede il patatrack eh perché se tra qualche capitolo succede un puttanaio demoni maghi demplano ok runa del fuoco frammento di occhio di tigre anello di ninette una mano cioè il mago ha ucciso ninette e gli ha staccato una mano perché gli ha tagliato una mano e perché gli serviva un anello quindi finita la quest cioè letteralmente è morta sfrandumata di legnate anzi neanche fa tappezzetti per il ragù come lo fai tu ma più grande ma non potrebbe veramente essere che ci sta in serie al killer che ammazza le donne o è Yoshigage Gira e quindi gli piacciono le mani dei morti oppure fa a pezzi le persone e le riattacca insieme oddio potrebbe per fare la donna perfetta ci stava a pensare cioè tipo gli piacevano le mani quindi ha preso le mani da un'altra ha preso le gambe da un'altra ha preso il seno magari oddio mio ma che cazzo ma dai no spero di no ma ronghi a peccato scusate ma quella cosciazza che tra l'altro sì questa è quella di Origins questa è quella che ci insegna lo stile del duellante mi pare quindi mi confermate che quella signorina era lei non era un caso che si chiamano entrambe allo stesso modo figata come cosa minchia gli hanno fatto un rework incredibile hanno fatto un rework totale della grafica perché giustamente pure lei ce lo diceva che era un pirata tutte ste cose però in Origins c'erano tre modelli letteralmente andiamo a parlarci subito perché questa sicura è un membro del party va che bella però madonna con tutto proprio piratesca con l'oro con le robe fighissima contando che sono vestita in full plate di 7000 ghili non so che tette che culo vedono però dettagli buono a sapersi madonna che bella esteticamente mi ricorda non so chi giustamente visto che ci hanno fatto 75 quest anche tu mi chiedi un favore che cosa hai chiesto a Lucky va bene wow che cos'è abbiamo iniziato da un secondo che cazzo è quella roba madonna ma che cazzo di animazioni c'ha il ladro ma son bellissime ma c'ha delle animazioni di Cristo il ladro ma to ma quella è un attacco base io pensavo fosse una skill quel salto è lei che si lancia così madonna ma bellissima ma voglio giocare anche nei panni di un ladro però vedete sotto il punto di vista del gameplay mi ispira perché mago guerriero un ladro e anche tecnicamente puoi fare anche i ranged con l'arco sono molto fighe a vederle così giustamente già noi siamo rapidi come la merda io mi immagino un ladro che cazzo di roba no c'è un ladro che ha i doppie lame che fa i gridici che va in furtività deve essere qualcosa di bellissimo scusate ma questa è la chiesa Isabella perché stai andando alla chiesa tu non ti vuoi fottere qualcosa dentro la chiesa davvero e mi stai per far diventare un cazzo di criminale è inutile che mi cerchi di persuadere con le pocce non ci casco neanche con la cosciazza ma andiamo dentro la chiesa vabbè le statue finalmente che sono con le texture ragazzi isabella di cargola di cargola non sono cargola Hayda erano persone questi scambi erano 100 sovrani e tu lasciarli scurri in le wilde e ora il relico è venuto anche Castiglione non sarà felice di ascoltare questo lo prometto ti dobbiamo tirare sul murale a Castiglione Castiglione non è una persona molto felice è è potrebbe ha bisogno un nuovo hobby c'è solo un modo di sottolineare oh era entrato per un attimo Snyder ha fatto metti sto rallenty porca ma scusa ma c'ha mezza chi appa di fuori vabbè dettagli domanda perché noi stiamo facendo questo fight dentro la chiesa Castiglione won't hear about me from Hayda but he'll find me eventually I just have to get in the relic simple as that e a che ti serve la reliquia vuole una salvetta umida per togliere un po' di merda ti aiuterò quindi il party è completo non credo avremo qualcun altro dove lo infiliamo lei tra l'altro è un ladro con le dual quindi lei potremmo sfruttarla tantissimo in combo con la nostra cara sorellina perché sicuramente lei farà danni che può magari rompere il ghiaccio e compagnia è un po' di merda Non sono finite manco per il cazzo le quest ragazzi Ne dobbiamo fare ancora un paio Sempre pronta ad aiutare Lei è proprio proprio bella È molto grezza piratesca Tu come sei messa Uh fa vedere Isabelle non risparmia i colpi basi se questi le consentono di vincere in un duello Dritto a prua Ah che bello Istinto Lupa di mare Tutti in coperta Mano esperta Danni da colpo critico Non credo saranno un paio Ma noi finiamo che ne sono 20 quest Poi sbucano personaggi nuovi che fanno Ho una quest per te È successo È la terza volta Cioè per carità figo eh Perché queste sto vedendo che sono quest un po' più ciotte rispetto al vai lì e mazzuola di legnate Qualsiasi cosa si muove Ma ha una cicatrice qua sul collo o è texturizzato male? Attento a chi accusi Se vuoi finisco l'opera che c'è al collo E hozza c'è nel carico? È valutato? Come potrei sapere perché vogliono? È solo le spezie e le erbe Niente speciale Va bene droga E come hai fatto a perdere il carico? Vabbè come al solito Ma come Avelin accetta? Cioè se mi ha lavorato i pirati Avelin ne fai amicizia Avelin c'hai un debole per i pirati Fallesemente Non mentire Continuo a dirlo Mi vado a infilare in queste quest che sono anche un po' lontane dal roleplay del personaggio Perché ho capito ormai Calentano in Dragon Age 2 non c'è quel tipo di roleplay lì no? Non c'è quel tipo di roleplay del non fare determinate cose Andrà a tuo favore Ma bensì ti devi infilare nelle quest un po' forzatamente E mid quest potrai scegliere che esito dargli Eh sì diciamo che io capisco che il primo capitolo Poi vediamo come si va a sviluppare È molto pianti tutti i semini delle main quest Che poi si andranno a sviluppare nei vari capitoli E quindi poi nei vari capitoli ci sarà la fine dell'esito no? Cioè fai una scelta buona Più scelte cattive E quindi la main quest finirà in un determinato modo È crashato il gioco Me lo sentivo qua Ho salvato Tu volevi Dragon Age Io ho salvato pezzo di merda Io ho salvato Non fotti Ti conosco troppo bene Mi sono fatto il finale di Origins Che ogni mezzo metodo crashava O so solo io come mo' ho fatto Ho una richiesta? Che strano La paura vi aiuterà a ricordare forse invece Questo potrebbe aiutare Dai queste dummone da sta testa di cazzo C'è stato veramente un tiro su intimidire che è fallito però C'è anche qui come sugli altri Dragon Age L'intimidire Il persuadere No perché non ho visto statistiche Skill e cose Quindi è semplicemente che loro dicono No non abbozzi Io vorrei vedere un Oak Uomo in full plate Che ti punta un coltello alla cuore Se gli vai a di tipo quelle cose Però dettagli E questi perché ci stanno per saltare al collo? Posso entrare? Scusate Proprietà privata di chi? Allora non voglio essere una Barbara di merda No? Di chi è questo posto per favore? Cioè qua tu puoi avere qualsiasi personaggio Per andare avanti devi ucciderli Cioè devi fare il tempo di morire Devo andare Aspetta eh faccio Magari qua sotto c'è un altro passaggio No devo ammazzarli E che devo fa? Eh guardi Il roleplay mi ha detto che posso dirle soltanto che deve morire La violenza è l'unica opzione a sto giro purtroppo Si colpo alle spalle Madò ma che bello il ladro Madò Ma figata Ma quanto rapido è Eh ho capito È un arciere Quanti cazzo di HP deve avere C'ho paura di shot al party Catena di fulmini Ah ma catena di fulmini Colpisce soltanto gli avversari Ma aspettavo di shot al party Minchia meno male che c'ha armatura magica Merrill Mi devo abituare a giocare con sto party Perché col fatto che non abbiamo Bedani Bedani è veramente una manna raga Bedani è una manna dal cielo come personaggio È veramente fantastica Perché è un support di Cristo È di Cristo È veramente linfa vitale per il gruppo Perché c'ha quella cura e me sa che la prenderò poi pure a Merrill La cura al mago a sta difficoltà è un must Ecco inamovibile è una skill che tu devi avere sempre attiva però Queste robe devono essere attive sempre tutte Tu sei il muro del gruppo Perché Evelyn veramente è imbuttabile giù Bottiglia colorata vuota Campione del carico di Martin Sì ma dimmi che cazzo è Dio madonna Mi vuoi dare un po' di contesto Dio Cristo Grazie Ragazzi Isabella che mi ha spiegato che cazzo abbiamo preso No Isabella che ti pigli una pizza in bocca fortissima Ah è stata shottata da un assassino Ruca Sta cosa proprio non si toglierà mai eh Sì sì proprio ha fatto puff Secca 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 Perché avrà crittato il merda Se shotta anche Evelyn vuol dire che è glitchato Su chi è il cazzo Cassino di merda Evelyn è un muro Non la butti giù quella donna Madonna me la sposerei Stai fermo sul posto Merda E dai si è bevuto un'altra pozza Dio madonna devi morire Questo dovrebbe essere un ladro madonna Che cazzo è un ladro di livello 20 di D&D Le finirai pure tu le pozze brutto stronzo Madonna è morto dai Oh Ora il distruttore Che poi tra l'altro dovrebbe essere come noi Quindi debole alla magia Un cazzo È duro come la da manchio Sette ore dopo Two thousand years later Comunque gli assassini raga rimangono sgravati Ma perché io continuo a dire sta cosa Loro hanno fatto proprio Non un errore La cosa è di aumentare le percentuali Tu non puoi aumentare semplicemente le percentuali Però con un ladro tu non puoi farla una roba del genere Finché lo fai con la classe del cacchio Ok La classe media Se tu lo fai con una classe specializzata nel critico Specializzata nel fare danni Tu non gli puoi mettere uno sbrago di difesa e di vita extra Perché là non è tattica Là è come ripeto sempre Aumentare statistica random Se il ladro in D&D Invece del D8 C'ha un D12 Diventa immortale E fa 18 mila danni Ma soltanto gli assassini C'hanno sto problema Perché gli altri pure pure sono gestibili Quindi è bellissima come cheat Madonna Mai trovato un parallelo col sesso più bello Fallo di merda e ti farà cagare Fallo bene e sarà la cosa più bella del mo Madonna Isabel Ma non sei soltanto signorina che fa Bravissima Questa mi è piaciuta A noi che cazzo ci frega Il lavoro nostro era uno È come di che non dovremmo vendere spade L'archi e i pistole Perché sennò fanno bordello Nel magazzino Capitolo 2 ci sarà lui che ci vende la roba Voglio aiutare Il rituale Dei custodi grigi L'hanno sgamato e lo usano per potenziare i templari Però no Come fai Ditemi dell'iniziazione Ergo vuole estremisti E basta Posso parlarci con Wilmod Chiulene qua? Pezzo di merda Che cosa ci fai qua? Ma no così Ma ho capito zio Ma non in mezzo alle palle Ma sei uomo pure tu Ma sei un figlio di puttana Ma tanto scusate Ma Chiulene è diventato daddy? Ma con che cattività? Sì sì proprio ho detto Tu non farei più figli Non ci sarà più la serpe in seno Dunque ora torturate le reclute? I thought Templars only treated mages this badly Nice to see your branching out This is Templar business stranger You struck me the last time you pathetic human To me No aspetta Allora non può essere il rituale dei custodi grigi No non è che non era umano È probabilmente Perché questo è sopravvissuto È un rituale che gli ha fatto fare Meredith E probabilmente Meredith Sta facendo un qualche rituale Per potenziare i templari Per buttarli contro i maghi Io non vorrei che li rimpinsi di lirium mastecca E questi diventano quasi maghi Cioè questo qui si è trasformato in un'ombra Oppure li fa impossessare volontariamente dai demoni Poi si è preso una gigata tra le palle così forti Che l'ha trasformato Ha fatto puff E se il giga è voluto La recluta è rendita Ma non può essere così semplice Perché i demoni vengono da noi Quando ci sta uno squarcio nel velo Si infilano in qualcosa E impossessano qualcosa Cioè Meredith sta facendo qualcosa Che non deve fare Q-Len tu che sei un cazzo di antimago Vuoi fare qualcosa? O ti rimani a fare veramente La bella addormentata? E vai Demone dell'ira Abomini Perché poi abomini Sono maghi da qua da noi Che sono stati impossessati Quindi non vorrei che lui tipo L'ha portati qua Q-Len ma tu vuoi attaccare? Ma vedi che sei proprio inutile Come nel primo gioco Dio Cristo Non fai un cazzo Non stai facendo Pazzoletto Era un abominio? Cioè hanno trasformato In un abominium templare Però vedete che vuol dire Che in origine c'è Beccai Cioè i templari Col fatto che assorbono Sono illirium Sono umani Iare iare da sé Sono Non dico maghi Ma tipo una sorta di Maghi ancora non sbloccati Come in D&D Tu sei un guerriero Se prendi la classe da mago Puoi cominciare a sviluppare il mana A meno che poi questa cosa Non si va a rinfilare A quella questione a capo No? Del Perché gli umani hanno sbloccato la magia Perché a forza Dei mischiasse con gli elfi Molti umani C'hanno come Gli stregoni D&D Qualche effo Nell'albero genealogico Gli ha dato la magia Quindi magari alcuni di questi templari Non è che muoiono a random Muoiono perché magari Sono proprio umani puri Cioè non c'hanno Nessuno nell'albero Che gli sblocca la magia Mentre quelli che c'hanno Qualche capacità magica Anche latente O in generale nel sangue Riescono a sopravvivere Riescono a diventare Degli abomini Però questa è un puttanaglio Perché se prima un abominio Era un mago Che diventava Un aborto Adesso abbiamo Dei templari In full plate Che diventano aborto Meno male che c'ero io E' diventato capitana addirittura Poi E cosa Credete che sia successo? Ci ho preso Ah ok Ecco perché c'erano Tutti questi abomini Perché lui si è incontrato Con alcuni suoi amici Fuggiti dal circolo E l'ha trasformato in abomini Il fatto è proprio quello raga Cioè finché sono demoni Li capisco Perché squarci il velo Passano E ok Ma un abominio Vuol dire che c'è un mago Che ha Diciamo perso Psicologicamente Contro un demone Cioè c'è deve sta un mago C'è deve sta un cristiano Che poi esplode Quindi questo si è incontrato Con tutti questi robbi E l'ha fatti trasformare Quindi sì La nostra cara meridite Sta prendendo Tutti i templari estremisti Cioè proprio quelli che dicono no A morte i maghi E li sta trasformando In delle macchine da guerra Bene Dovremo mettere un freno a tutto ciò Your other recruits are still at risk We must find them I fear we're already too late Wilma disappeared along with another lad Karen A good boy Good boy But I had no luck interrogating Young ladies Però è rimasto molto puro Bellina come cosa Forse avrò più fortuna È giustamente In sta live Vi siamo andati fin troppe volte al bordello Ma troppe 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 volte Conosci Wilmod Kiran Ti ricompenserò Però a me Dragon Age 2 Su queste cose Mi sta dando Madonna di Cristo Che urto Perché tu vai con l'intimidazione No dovevi pagarlo Vai per pagarlo No dovevi andare con l'altro approccio Dio Madonna C'è l'ingioco la vita di alcune persone We have a lot of missing templates If we don't act quickly We may only find corpses Now now No need to get all dramatic on me Let me look through the books Che cazzo ci hanno fatto Ci hanno sborato sopra Perdonate però c'è Wilma came in here a lot You sure he had time to be a Templar? The both of them last saw Iduna The exotic wonder from the east Iduna la meraviglia esotica dell'est Ho quello che mi serve Thank you for your help Quindi andiamo a cercare La meraviglia esotica dell'est Cazzo di nome Iduna, right? Do you remember Entertaining a Templar Named Wilmod A few weeks ago Or Karen Wilmod Wilmod Basta fingere Do your clients like this charade? It must get dreadfully tiresome Whatever do you mean? Serve una crema pantenne Cioè delle rughe in fronte Zia, madonna Ci posso veramente Grattare il parmigiano Questions are boring Why don't we have some real fun? Are you certain We can't postpone this talk? You should listen to your friend C'è una regola non scritta ragazzi Che non si infila qualcosa dentro Don't stick in crazy O costriggermi a usare le cattive Sperando che non sia un'allusione sessuale You've got one more chance to answer me Before I make you I'm just trying to make a living No need to be cross Who told you about little old me? M'è rotto il cazzo Parafrasi È una maga del sangue È una maga del sangue Brutta stronza Oh, Vivica sold me out Did she? That dra- Raga Raga, help Oh She will be dealt with Na mano Just do one more thing for me Draw your blade And bring it gently across Make it do not stop It ends Now Madonna Best waifu Madonna Io se ero ruga in questo momento Appena mi liberavo Andavo proprio di piatto Col pugno qua Il craneo Frattumato Brutta vacca Però vedete Avete capito il senso della magia del sangue C'è questa mi ha fatto uno sguardo Mi stava controllando Poi che i miei compagni Avelline Mortacci Tu e De Quinto Dice Sì esatto Ma perché Oh che sta Mettendo il cortello alla gola Si vuole tagliare la barba Lascialo Ma è una donna Non ti preoccupare tu Lascia fare Oh che fattoria da mantia Non avrò pietà Io era per minacciarla No Oh che subito Atta Io l'avrei voluto uccidere più violentemente Però va bene Prostitute eretiche La prostiche Ma perché Ecco perché È così famosa E compagnia Perché probabilmente Forza le persone Chiamarla A fare le cose A dargli Probabilmente Anzi non le fa neanche le cose Si fa pagare e basta Quindi ci stiamo andando ad infilare In una tana piena di maghi del sangue Comunque Quirkwall Una bomba atomica Quirkwall Una bomba atomica Ce dovrebbe cattere sopra Raga Come la salvi sta città Demoni Templari che si trasformano Abomini Maghi del sangue Gente impossessata Che cazzo fai Infatti questa è una cosa che De l'or fa un po' cagare Perché i maghi del sangue So grevi Cioè tu devi avere Determinate protezioni Devi essere Ma forte Non puoi andare contro Un esercito De maghi del sangue A random Ma dettagli Ma dettagli Inghia maghi del sangue Ma figli di puttana Però eh Uh Che cos'è Aspettate C'è qualcosa di molto interessante Che cos'è Meno male Meno male C'ho due maghi Ah ok Mi sa che quella roba lì È il tormento Noi quando magari In Dragone G1 Facciamo il tormento È quello Sta dall'altra parte È andato nell'oblio E sta facendo il tormento Però Rispetto A noi mago Non deve sconfiggerlo Deve trovare un demone Con cui fare un patto Che figata È proprio contrario Lui deve trovare qualcuno Che dice Ok Io ti porto di qua Ma mi dai il potere Figo Bello anche esteticamente Bravi Ti sfido ad attaccarmi Puttana Aggiungo Ah ok Quindi Aspetta Mi sa che allora È differente Da quello che sta a fa Meredith I maghi Stanno cercando Letteralmente Di creare Delle bombe Ad olorogeria Cercano di fare Stai cose I templari Li rimandano In mezzo alle cose E giustamente Quindi I templari Che si trasformano In aerobomini E fai Che cazzo Sta succede Sempre per fare la cosa No voi non siete Diversi dai maghi No E per sta cosa Sì I templari Potrebbero far esplodere Il circo Ma proprio secco Fine Dove Sono le reclute Ora morirai Eh vabbè Non se stanno Eh dai Sei rifullata Madonna Che Che Bastarda Che sei Va bene Beh è immune A un stordimento Ed è immune A tutto Sto mago Ma che cazzo vuol dire Ce l'ha messa a terra Multipla Sì Aspetta Kieran Eh Mo arrivo Merrill è posseduto Bello che possiamo chiedere a Merrill Perché lei è molto più a suo agio Con gli spiriti Merrill You know something about this Is he possessed I don't know It's It's clean There's no scent of demons in his blood Mi fido di Merrill Appunto ripeto Qua c'è il roleplay Proprio base base Cioè chiedi a Merrill Merrill ti fa Yes A posto Pulito Secco 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 Tu dici ok è pulito O non lo so Eh no perché se lo dica E templari ho paura Che lo sfruttano Per farci delle cose Però vai Mi fido di Merrill Merrill mi ha detto Che è pulito Non ci son demoni Vai Go ahead and leave Karen You've been through enough Don't tell the Templars I I don't know What they do to me Please I need to go back Tell them I'm all right Tell my sister I I must go Callum needs to hear About this mess Blood mages Have infiltrated Your ranks They've been implanting Your recruits With demons Sweet blood What of Andraste The Demons Did you say something About the recruits And demons I didn't want to tell you Marsha They They were horrible Those mages See the rest of us As ants to be crushed They won't stop Until they've destroyed The chantry And the Templars For ever Ora è tutto finito Non puntiamo Da una parte O altra The situation is dealt with Who is right and wrong Is academic Wrong This is no stuffy Scholar's debate This is the central fact Of the world That Andraste recognised But I will not preach Thank you for your service I will relieve Keren of his commission Now If there is any chance He still harbours A demon in him No You can't really think that Keren's fine He's safe He deserves mercy What happened Wasn't his fault Please sir I tried to resist I never took anything They offered I I need this position Or my sister can't eat I've been training For five years Keren sta bene We conducted tests On Keren He's not possessed He can stay in the order I hesitate to ask What method you used That you are so Ma te cazzi Do I campi cent'anni E su Madonna Gulen Si proprio un dito Un culo Che si è rimasto If you have shown No sign of demonic Possession In ten years time Keren will become eligible For full knighthood Thank you Sarah Again But without a full knighthood Keren's pay is so small I do not know If I can reward you As you deserve Se per dieci anni Sembra posseduto Sta il demone dentro Kyle che fa Soprattutto c'ho tutto il tempo Del mondo Ma che cazzo me ne frega a me Keren si è proprio rincoionito E si star Ma i templari Effettivamente su molte cose C'hanno ragione C'hanno anche ragione Le persone ad avere paura E tutto quanto Però queste situazioni È sempre che c'è Della verità da una parte E della verità dall'altro C'è Giustamente i templari Non è che sono bianco e nero Queste situazioni sono bianco e nero Perché come tra i maghi C'è stanno le persone Che dicono No vabbè Non tutti i templari Sono uguali Oppure tra i templari C'è stanno Non tutti i maghi Sono uguali L'abbiamo incontrato Il signorotto vecchio No Molto bilanciato Tra la cosa Non li appoggiava al 100% Ma non era estremista Infatti In questo gioco Stanno facendo molto Questa cosa Stanno premendo molto Sussitasti Perché ci stanno Personaggi come Meredith Come i suoi templari A cui sta facendo Sto rituale Che sono estremisti All'ennesima potenza Proprio come se fosse Veramente Il terzo Reich Ma sta cosa Esiste anche dall'altra parte C'è stanno dei maghi Che appena vedono un templare Vanno uccidi 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 Mentre magari ci stanno Personaggi come Bethany Che vorrebbero più farsi I cazzi loro Che so più Dall'altra parte O cose di mezzo Come Meryl È molto bella Sta cosa Quasi politica Che ti stanno facendo vedere Ti stanno anche facendo capire Come ogni personaggio Vede questa situazione Perché ho capito Che insomma Kunari E magia Slash templari Saranno gli argomenti principali Vogliono mettere Un punto all'interno Di Dragon Age Che magari poi Si andrà a sviluppare In Inquisition Anzi sicuramente Si vede come va sta cosa Figata Sono contento Di sentirlo Anche perché questa sarà Una cosa che non finirà mai Cioè a meno che non succeda Veramente qualche Puttanaio Estremo Per cui I templari E i maghi Se guardano e fanno Raga Dobbiamo collaborare Se non ci aprono il culo La vedo difficile E vediamo che dobbiamo fare Devo andare direttamente A fare la spedizione Non ci credo Da far serio È arrivata qualche lettera Porca puttana So che ho gente Il bisogno di denaro In tal caso Credo di avere una proposta Che non potrei rifiutare Puoi trovarmi vicino Al fonderino A città inferiore Di notte Vabbè è una Ma che tra l'altro Noi dobbiamo in realtà Da tipo gli anelli Dobbiamo andare a tutte le persone Guardate i vostri familiari Sono morti Allora dobbiamo in realtà Andare un attimo Alla città superiore Perché dovremmo dire Al signorino Che abbiamo trovato Solo la mano Della moglie Quella cosa ancora Mi mette i brividi C'è un cazzo di Jack Lo squartatore Che sta facendo Che tu a pezzi Le persone Le sta ricucendo insieme E visto il DLC Di Dragon Age Origins In cui facevano Un golem di carne Eeeh Non vorrei Che veramente Ce lo ritroviamo Certo parli come Un gibbone Zio però Sulla sua mano Mozzata Cioè Ragazzi Gli diciamo Una roba Questo si ammazza Non ti preoccupare Penso a tu Io Meno male Che c'è stanni Sotto titoli Perché questo Veramente E' incomprensibile Ciao Non sono ancora Socia E cazzi due No E perché non Può investire Dovrei Sdradirlo E se ti scapoccio Sul posto No I soldi ce l'ho Tu non Tu non hai idea Sono otto live Che faccio queste Io Ma no Ma perché Dovrei Inemicarmi Qualcuno Così di Boto Gli sta sul Cazzo Gli sta sul Cazzo Cioè nel senso In questo momento Ruka pensa Oh a spedizione La sua Non vuole Che ce stai E non ce stai Nel senso Semplice Pulito Non te ce vuole Non te ce vuole Madonna ragazzi Siamo per partire Cazzo ha dato come giù a ridere dunque accetti yep ha ha ho le mappe ha ha ho le mappe ho le mappe sembra divertente ciao mamma come sai no non ce la portiamo dopo che mi dici sta cosa ma sicuro come loro viene corrotta dai pro l'oscura ma sicuro io spero che la gente che mi porto non muore perché tanto succederà al puttanaio varry kavelin allora anders farebbe comodo perché c'ha delle cose da curatore quanto greve sarà questo viaggio andiamo di full dps andiamo di full dps oh thank the maker are you sure about this sis i hope you're not just trying to protect me nostra madre ha ragione scelto perché io ho proprio il terrore sanse che muoia la sorella però magari potrebbe essere che se te porti pure anders può fargli il rituale e farla diventare un custode grigio potrebbe però perché anders dovrebbe sapere il rituale dell'unione vincere non posso continuare no this can't be right the champion and her apostate sister came to kirkwell to spread subversion against the chantry but you claimed this wasn't the case the champion just happened to have dealings with the canary joined forces with a known raider a blood mage a rebel warden and for what coin maybe it's not as simple as you imagine seeker simple do I need to remind you what your friend did to tell you how many lives have been lost how many more will be lost you cannot sit there and tell me she is innocent I don't know if innocent is the right word exactly she must have known somehow the champion knew what was down there that's why she wanted to join your expedition no none of us knew if we had this would have all turned out very differently is that so then tell me your version of what happened on this expedition well we entered the deep roads as planned but we didn't get very far madonna che puttanaio deve essere successo però cassandra io la adoro anche se preferisco quella di inquisition posso occuparmi dei pericoli I'll deal with whatever we find if it means not sitting here we'll take a look if we come running back screaming you'll know staying put was the right decision fine fine find a way around just do it quickly minchia il fratello comunque greve eh I hate to add to your burdens my friends but I fear I must I fear my boy Sandal wandered off he somewhere in those passages right now I beg you keep an eye out for him he just doesn't understand danger like he should io lo giuro se ritrovo Sandal circondato da Proluscura Morti e Ogre gli estacco la capoccia perché vuol dire che è l'anticristo te lo dico lo cercheremo we need to search the side passages we'll bring him back if we can poor Sandal I can't believe he's done this let's move quickly then belle madonna tra l'altro siamo nelle vie profonde madò madò che bello come l'hanno rifatto salve c'è qualcuno eccoli qua Proluscura ma che cazzo è quel coso infatti c'è un gellock enorme con uno scudo ma bellissimo perché è il capo branco quindi hanno aggiunto un rango hai Proluscura ma figata c'ha la porta di casa mia al posto dello scudo per fare una citazione quello è l'irium ma che bello fatto a forma di albero ma che figata c'è un emissario quello fa male quello è brutto madonna questa è una roba che ha evocato l'emissario ma figata era tipo una palla di fuoco ritardata tipo quella di D&D bellissima ma bellissimo questo è l'irium non fate un commento è l'irium fatto a forma di alberi cioè che fanno tipo radice qui ci sono dei ragni stanno per sbucare 18 ragni o bestemmio la madonna no aspetta niente li guandrà ai denti che se no me la trancio di un netto sicuri eeeh no non esce la crema vaffanculo chichi de puta no così ve imparate merde chiudete gli occhi mamma mia guarda quegli occhietti brutti no no mori no no ma che voi siete matti in culo hanno messo i ranghi più grossi dio madonna allora diamogli fuoco non è stata di che questo è un dungeon che poi verrà riutilizzato a spack vero? questa zona voi mi ci dovete fare entrare c'è un buco qua non ci si può andare è una zona che verrà riutilizzata a spack va bene ruga uccidilo staccagli la capoccia hallo ottimo lavoro ottimo lavoro no sempre con la runa boom and how did you do that? not enchantment smart boy allora ha detto no enchantment quindi ha detto non ho usato la magia perché probabilmente essendo che crea le rune combatte con le rune cioè come noi sulla spada possiamo metterci più 8 danno da freddo cioè lui tira praticamente ste pizzettone nucleari magiche credo sandal mi preoccupa sempre di più lirium grezzo e vai level up e raga per me sono due le cose ormai o è veramente un dio reincarnato o è una nuova mezza razza primo dei mischiaticcio tra elfi e nani e quindi si usa la magia ma non credo lo spiegheranno mai dav perché lui ha cacciato fuori la runa ci ha fatto vedere ha fatto boom no enchantment quindi immagino sia tradotto non ho usato la magia spero quindi l'unica che mi vieno a pensare è che lui abbia usato le rune cioè il potere nella runa madonna mia ancora non posso vedere questa roba perché vedete c'è del lirium spezzato mi sa che lui ha preso il lirium e l'ha usato perché se no perché ci sta il lirium spezzato qua non devo dare così tanto peso all'ambientazione è vero? se sandal fosse posseduto da qualche spirito che gli permetti di usare i suoi poteri tramite le potrebbe anche potrebbe ma ci stanno tante cose tante teorie dav perché il fatto che lui sia stato ritrovato da solo nelle vie profonde a contatto con tantissimo tempo con il lirium infatti è un po' demente poverino e magari che ne so se è infuso magari è un mezzo nano quindi è più facile che se possa infondire c'è il fatto che per adesso sappiamo un cazzo di sandal sappiamo poco 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 il fatto che poi ti mettono sti momenti in cui lo trovi che ha aperto gli eserciti che tu fai va bene zio che cazzo ti devo dire di che cosa devo parlare qui sei una macchina cioè sarebbe figo se magari appunto è una sorta di è il primo mago nano è il primo nano che è riuscito a sbloccare la magia o qualcosa sì oppure dentro c'ha un altro dei vari di 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 diverse categorie c'ha un altro di quei cacchio di draghi corrotti golem a random sono perduti nelle vie profonde non ne sapevo più fare golem a random o quando succedono queste cose raga veramente proprio mi appaiono brutalmente ah la fanculo guarda ruca smash penso da averli presi mica l'ho shottati tu ha 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 chichi de puta ah proprio così che fai la carica figlio di puttana oh si è incornato al muro belle ste meccaniche figata no è un no è un dra aspetta come ci si è ficato un drago nelle vie profonde per divertimento probabilmente perché allora di lore i draghi si vanno a infilare nelle caverne nei posti profondi e bui per fare i niti quindi magari si è venuto qua a fare il nido i dragoni sono i draghi di sesso maschile cresciuti perché in dragon age l'unico che diventa a me coglioni grosso con le ali potentissimo sono le femmine servono per fare i buccache ragazzi i maschi maturi dei draghi servono a quello letteralmente l'abbiamo letto nel primo affanculo du mila da anni merda inclemente lanciere di nevar ah ah però belle ste cose di lore perché nevar è famosa per i cacciatori di dragoni cioè ci stanno così pochi draghi nel mondo di dragon age perché ci stavano letteralmente i cacciatori di draghi che l'hanno sterminati quindi questo molto probabilmente si è magnato un cacciatore di nevarra ah qui questo va proprio dove vogliamo tornare tornare e diciamo a Bartrand sarà così piaciuto ah c'è proprio good job e siamo andati holy shit mh questo è quello che ti aspettavi? ho pensato un abbandonato qualcosa di vecchio ma cosa è questo? come avessi even know it was here? old scavenger tales after the third blight a week below the surface they said but nobody believed them looks like they were right make camp here we need to look around è lirium corrotto dai pro lo scura è lirium rosso ecco perché qualcuno mi ha scritto sotto uno dei reels guarda che ti sei fatto automaticamente uno spoiler sono riusciti a corrompere il lirium e quell'altro voleva faccia amicizia dice no possiamo coesistere ma come coesisti con il pro lo scura? sono riusciti a corrompere il lirium non lo capisco niente in questo tiglio non fa senso perché è questo? siamo ben below the deep roads qualsiasi dwarvi vivono qui venivano molto prima del primo blight ma dove sono le statue di Paragyns? non riconosco queste margine sull'uomo o niente nella ruba beh se prima del primo fragello magari ancora non avevano cominciato a fare le statue dei campioni primo fragello ragazzi ma parlate mica ieri e che fa il lirium rosso e l'urion corrotto? eeeh boh probabilmente si ti fa diventare rosario muni tutta la bavetta e non so se già il lirium in quantità normali ti fa venire la demenza ti fa scoppiare a sue fazione ci puoi andare sotto ci puoi morire il lirium corrotto io ho paura non sei uno storico a quanto pare non sei uno storico a quanto pare io ho capito io ho capito la nostra storia e io ho capito che non abbiamo cambiato molto i drifuri hanno stato ammigliato in tradizione da molti anni questi drifuri potrebbero essere unici se così spero spero che bello esteticamente hanno detto ok ci serve potere e magari hanno fatto sto lirium corrotto hanno detto proviamo il lirium corrotto però che ci fanno i nani con il lirium a meno che non fossero nani magici ma non credo mai ma roh che bello poi sto contrasto sono avari città archengene ma infatti secondo me Bartrard potrebbe farla sta cosa perchè sono comunque nani demoni giustamente madonna 5400 è morto spero ok paigancestrare eh la madonna dove cazzo stiamo entrando nei coglioni effettivamente non ci sono le cose dei campioni ma ci sono queste strane statue che ricordano molto il Tevinter potrebbero essere nani del Tevinter potrebbe effettivamente perchè il lirium rosso i pro all'oscura ma che c'è là davanti una trappola idolo di lirium di Indiana Jones che cazzo tocchi tu? cosa tocchi? si 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 se è proprio chiusa dietro di lui Varric madonna si è Tevinter esteticamente questi erano anni del Tevinter ahahah perdona mamma però minchia ma questa è una scena che dice molto di Varric perchè lui fino all'ultimo ha detto ti si è chiuso la porta dietro fratello e invece un cazzo se l'era ingulato e basta il lirium è il re dei minerali nella sua forma grezza emette una melodia se opportunamente raffinato diventa un liquido argente uniforme e leggermente ridiscente nelle mani del modellatorio che essenzialmente è il comune dei nani diventa un deposito di ricordi viventi ah ok ma quindi il modellatore non è che erano lastre in cui ci scrivevano e cose che succedevano sono letteralmente memory card di lirium figata credo poi io che tocca il ma che cazzo tocchi un idolo fatto di lirium c'è il codec poi se lo tocchi muori lei lo tocca ma porca puttana infatti ci ha fatto qualcosa tanto si lirium rosso mai visto prima che cazzo è quella roba laggiù sacrilegio no sacrilego ah sono immuni giustamente perchè credo siano elementali del fulmine gli elementi tipo terra e fulmine quindi questa roba meryl's è appena diventata inutile mi dispiace dirtelo cucciola versi rinvenuti su un muro del tic per tutti rivanna dell'esploratore faruma helm oh è della helm quella che abbiamo fatto in dragonage origins che era tipo una tra virgoletto di nessuna e poi è diventata entrata nella nobiltà ok ci nutrimmo degli dei questi sì erano nani del tevinter che probabilmente sono rimasti intrappolati qua in mezzo alle macerie e compagnia bello però nemici nuovi finalmente finalmente perchè fino ad adesso sono state cose molto viste o di cui sapevamo quindi questa roba nuova bello 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 quindi vuol dire che ci sta qualche cosa che adesso mi aprirà il culo perchè come di consueto se ci stanno i bambini ci sta anche la mamma e questa sarà tipo mamma spirito maligno poi bello tutto illuminato con il lirium e soprattutto azzurro bravi qua ci si sono impegnati eh comunque il modo in cui spawnano è proprio da editor cioè quando voi negli editor dei vari videogiochi potete fare spawnare mettere i punti di spawn cioè proprio dritti precisi una crema questi buongiorno ahahahahaha senti Varic that was beautiful bellissimo io l'odoro Varic e tra l'altro io pensavo fosse una spaccatura verso il fuori mentre no questa luce è delirium quindi sono letteralmente onde gamma queste sono cancro Io pensavo fosse Ma tu ho quella roba gialla Sono i nervi C'hanno i teschi Io sono fatti di ossa e roccia E sotto c'hanno tutti i nervi Ci hanno attaccati per primi Il sangue da dove è uscito Devo saperlo Non senza la mia permissione C'hanno queste cose? Si sembrava che roccia Ma... Le sangue Le profane hanno lingere in questo posto For ages Beyond memory Feeding on the magic stones Until the need Is all they know Delirium That's what sustains them I am not as they are I am A visitor Esatto Meryl È tipo un demone O uno spirito Chiediamo a Meryl It is a hunger demon Drawn here by their need I would not see my feast end I sense your desire You seek to leave this place But you will need my aid To do so There's nothing to be afraid of You can use it if you're careful What are our options? E come intendi aiutarci? Why do we need your aid to leave? There is another door that leads into the paths far above us That is what you seek It has been sealed However And cannot be opened Without a key I know where the key is Do as I ask And I shall tell you Io non mi fido del demone raga Meryl Uccidilo Possessione demoniaca I demoni più potenti sono quelli dell'orgoglio Si tratta delle creature più temute che vagano per il mondo Maestri della magia In possesso di un'intelligenza superiore sono i veri cospiratori Coloro che cercano più di tutti di possedere i maghi Pronti a portare numerosi altri demoni attraverso il velo per raggiungere i loro scopi Anche se non è mai stato scoperto ciò che potrebbe succedere in questi casi Un demone dell'orgoglio superiore portato dall'altra parte del velo minaccerebbe il mondo intero E io qui dico Puttanate Perché in Dragon Age Origins non abbiamo ucciso uno Non abbiamo ucciso due Abbiamo uccisi tre Tra cui uno shiny Dettagli Oh È fatto di lirium rosso sto stronzo Che pizzettone figo Bello il moveset Averin mettiti lì perché dobbiamo fare come sui MMO De culo devono stare i boss Allontanatevi C'ha delle cose da arena che ti devi mettere dietro qui Ma fighissimo Ah però poi una volta che lo fa rimane vulnerabile Dai che ci sei Dai che ci sei È morto Salva Dio Cristo Non fate spallucce è stato un parto Dove andate? Luttate Lo strontzo non ha droppato Che risata brutta Proprio doppiata male Ah c'è proprio così Probabilmente no Luck hasn't exactly been our strong point so far Oh I don't know about that The treasure we found in that crypt far outstrips Bartrand's stupid idol He'll be green with envy when he finds out As soon as I get the chance I'll look up my contacts to make sure we get the best price I imagine you'll want to head home Tell your family the good news We're going to be rich Sì ma sicuramente il lirium rosso è lirium corrotto dai pro l'oscura ma a mani basse È diventato nel circolo dei maghi Spero non per restarci Ma stai zitto Gulen che te piglia pizza che t'ho aiutato più io che tutta la gente tua Ma vattene affanculo Gulen Che bello però l'abito del circolo dei maghi L'hanno cambiato E' meno basic So the champion's sister was in the circle Yes But that's not the connection you're looking for Isn't it Driven from their home A sister taken against her will And the champion's companions Meryl, Aveline, Isabella That warden Anders Don't remind me I introduced them We thought they all came from Ferelden together But now it makes sense Motive and opportunity It's still not what you think Then I need to hear more Unless you've already decided I can always go if you don't need me anymore Tell me what came next Okay The treasure we found in the deep roads made us a fortune The champion moved up in the world Literally Bought a mansion in Hightown Everyone knew who she was now Even the Vykov was taking notice Metany was in the circle now There was nothing we could do for her Poor girl Three years later The Qunari Still have The Qunari insisted they were Waiting for their ship But some of us Do better Mincate tre anni Che è proprio data random Ma più che altro Io non la vedo neanche così triste Come la stanno a fa loro Perché Bethany Da quel che abbiamo visto Voleva andare al circolo Perché gli faceva paura il suo potere Quindi a sto punto Sta molto meglio là Che da qualche altra parte No non ce l'ho portata Perché sicuramente Moriva o succedeva qualche cosa Se devo ipotizzare Sunny ti direi che veniva Corrotta dai pro l'oscuro E moriva come una stronza